Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast può trovare sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione. Io sono Luca e questo è OneMoreTime. Il giornalista è un supereroe che ha due poteri, entrambi molto affascinanti. Il primo, che è un grandissimo privilegio ed è quello che poi solletica di più il nostro ego, la nostra vanità, essere la persona che racconta qualcosa che è successo e che gli altri non sanno. Io so qualcosa che tu non sai e io adesso te la dico. E questo rapporto è una cosa molto seducente, molto gratificante quando avviene, che se prendi come unica, diciamo, bustola nella vita, rischia di portarti su strade sbagliate. Puoi dirla grossa soltanto per avere il brivido dell'attenzione, no? E sparare una stupidaggine al giorno. E l'altra cosa, che invece è quella più importante, più complicata e un po' più nascosta, e forse è il vero superpotere, è essere quello che capisce le cose. Sai quando Neo comincia a vedere la matrice? Essere la persona che prova a fare quella roba lì. Allora, si parte sempre dall'inizio, ma ti devo fare una domanda prima di cominciare. Ti devo far spogliare dalle vesti di giornalista, e quindi mi serve Francesco, persona di brutto, così ci facciamo una chiacchierata inedita. Ma ti voglio chiedere, perché per prepararmi ad oggi, mi sono guardato un po' di cose che ti riguardano. Ti ho vissuto ad un evento celebrativo, dove c'erano degli awards del podcast, e vedo che il pubblico ti ama, cioè non hai dei fan. Tutto il pubblico ti adora, ti stima, quindi intellettualmente, da tutti i punti di vista, a livello umano, voglio capire perché. Perché non lo so, perché non sono un tuo fan che ti segue da tempo, e quindi non riesco a dare la lettura corretta a questa cosa, però è proprio bella, vuol dire che è talmente radicata che è molto sentita, no? Nelle persone, volevo capire, dal tuo percepito, che spiegazione dai a questa cosa? Allora, diciamo, bisogna mettere delle mani avanti, per forza. Lo farò una volta sola, poi non lo faccio più, però dal momento che appunto mi chiedi di parlare, non da giornalista, ma da essere umano, è una cosa che faccio volentieri, ma che non sono abituato a fare. E quindi metto una volta le mani avanti rispetto all'imbarazzo che tutto questo comporta per me, nel raccontare di me, nel raccontare del perché sono così amato, che è una domanda sensata, ma che forse sarebbe più interessante porre ad altre persone che osservano questo fenomeno da fuori. Mi accorgo che c'è un legame particolare con le persone che seguono il mio lavoro, perché seguo anche io il lavoro di tanti altri colleghi, tanti altri giornalisti, giornaliste che fanno delle ottime cose, e vedo che questa cosa è abbastanza rara, quella che sta capitando a me. Anche persone che lavorano molto bene, che vendono molti libri, che hanno un pubblico significativo, eccetera, non hanno questo tipo di comunità, che non è che abbia solo io, ma è una cosa molto rara, di comunità così affezionata, unita, fidelizzata, che si riconosce, non so come dire. Ovviamente ti posso soltanto azzardare delle ipotesi. E tralascio qui, appunto, seguendoti rispetto alla tua intenzione, quelle sistemiche, nel senso come i social media fanno sì che si possa creare una community anche attorno a un giornalista, cosa che qualche tempo fa non sarebbe accaduta, questo simulacro dell'intimità che ti danno, no? Le persone pensano di conoscermi perché ascoltano la mia voce ogni mattina, mi vedono sui social, ma in realtà io non ho idea di chi siano, le conosco quando li vedo per cinque secondi ai firmacopie. Quindi tutto questo fa parte della parte, siamo, mediatica, sistemica. Io credo che le ragioni possano essere due, ipotizzandole. La prima è che cerco di essere, mi sforzo di essere una persona gentile. Non litigo in generale nella vita, cerco di litigare il meno possibile. Sui social cerco di evitarmi la grandissima parte dei commenti antipatici, sarcastici, non salto mai sulla polemica del giorno, anche quando a volte mi scatena dei pensieri, no? Anche io la vorrei dire la mia sulla cosa di cui parlano tutti. Però evito. Cerco di, insomma, fare un punto al di là di che farlo per me. Nel senso che la esponi senza giudicarla? O non ne parlo del tutto, o se lo faccio cerco di affrontarla da una parte laterale, insomma, di non contribuire alla sassaiola il giorno che c'è la shitstorm contro qualcuno che magari se la merita tantissimo, però di non unire più quella roba. Non la izzi. Sì, un politico dice una cosa ridicola, capita più volte al giorno, non faccio il tweet che fa la battutina, magari la battuta fa ridere. Rido io quando la leggo dagli altri, ma io ecco, cerco di mettermi in una posizione sempre non ostile, sul piano personale, magari con le idee, con gli argomenti, di solo anche essere duro, se penso che serva. Però ecco, in un mondo come quello digitale, in cui c'è moltissima comunicazione aggressiva, da tutte le parti, e non solo da parte di chi sentiamo avversario a noi, ma anche nella nostra community, tra i nostri amici, parenti, io cerco di non essere mai aggressivo, mai ostile in come comunico. E quindi le persone che frequentano i miei lavori, la mia pagina, me stesso, si sentono in uno spazio sicuro. Non so come dire. Tu puoi venire a commentare il mio podcast, puoi mandarmi una mail in cui dici che non sei d'accordo con me, e puoi dirlo in pubblico, non sarai aggredito dalle altre persone. C'è una civiltà di base. E credo che questo contribuisca a creare questo rapporto un po' affettivo con qualcuno. L'altra cosa è che cerco di fare questo mestiere in un modo che mette davvero al centro la persona, il pubblico, chi mi sta ascoltando, leggendo, è molto meno me e la mia vanità, il mostrare quanto sono bravo e quante parole so. Cerco di essere il più semplice possibile, il più chiaro possibile, spiego le cose che poi tanti magari danno per scontate. Parto dall'inizio. Le persone lo vedono, se ne accorgono, e vedono anche, e questo forse è il terzo motivo che dovrei attaccarci, che lavoro un sacco. Cioè vedono anche che poi mi sveglio alle 4 del mattino, rispondo a tutti i messaggi, se c'è da fare un firmacopio lungo tre ore e mezza lo faccio, se c'è da presentare un libro fin delle tardi e poi mi sveglio presto lo faccio comunque. Se mi dici che la tua fidanzata è compiegli anni e vuoi regalargli un mio libro, io lo firmo e te lo spedisco. L'ho fatto con un sacco di persone e questa cosa tu pensi di farlo con una persona sola, ma se lo fai ogni giorno per dieci anni ti sei costruito una community di persone che ti conosce, che è stata esposta a questi atti, diciamo, di amicizia e quindi poi si comporta da amica più che da pubblico passivo. Come una bellissima serie su Netflix, questa è la scena finale. Adesso andiamo a ritroso, spieghiamo come ci sei arrivato. Quindi partiamo dall'inizio. Quando nasci e dove? Io sono nato il 21 aprile del 1984 a Catania. In Sicilia, quindi, non so cos'altro dire su questo. Il 21 aprile è il giorno del Natale di Roma. Roma poi sarà una città per me molto importante nel mio futuro, però ovviamente del tutto casuale la coincidenza. Figlio unico? No, ho un fratello di due anni e mezzo più piccolo, che si chiama Dario, che vive a Catania, che lavora in banca. Io e mio fratello siamo molto diversi, abbiamo seguito anche carriere e vite molto diverse, ma ci vogliamo moltissimo bene. Lui lavora in banca, è già sposato, io non sono sposato, ha due figli, io non ho figli, e quindi siamo due persone... Lui è al posto fisso, mentre per lui magari tu sei un precario. Beh, lo sono stato. Oggi non ho paura, diciamo, di non pagare il mutuo, ma lo sono stato, mentre invece lui è entrato in banca con il contratto di chi entra in banca e lavora con i numeri, mentre io lavoro con le parole. Però ci vogliamo molto bene, ci frequentiamo, ci sentiamo, e siamo arrivati a un punto in cui la differenza d'età non esiste. Siamo 36-38, siamo la stessa cosa. Parliamo dei tuoi genitori, il rapporto che avevi con i tuoi genitori da piccolo, ti amavano, ti coccolavano, ti facevano sentire importante. Che infanzia hai avuto da quel punto di vista? Ho avuto un'infanzia felice, serena, normale, con, diciamo, la vita di nessuno non prevede inciampi, però, insomma, niente di particolarmente tragico o drammatico. E ho avuto un'infanzia, direi, molto felice. I miei genitori mi hanno sempre molto stimolato a fare le cose, a imparare, hanno cercato di tirare fuori da me una curiosità nei confronti del mondo. Per esempio, mio padre cominciò a farmi giocare con le lettere che io avevo tipo due anni, con le calamite delle lettere che si univano tra loro insegnandomi che la B attaccata alla I si dice B e io imparai a leggere in casa a quattro anni. Ma per gioco, mi divertivo. Non ti sembri una cosa tipo il padre di Agassi che lo tortura con la pallina perché vuole che diventi un campione? Io mi divertivo molto, giocavo a fare il telegiornale e ora so che sembra una cosa ridicola, giocavo anche a fare tante altre cose, ovviamente, però quella è rimasta perché è rimasta attaccata a me. Poi mi hanno insistito perché io potessi andare a scuola all'elementario un anno prima cominciando a cinque anni perché sapendo già leggere e scrivere all'asilo mi annoiavo abbastanza e quindi ti direi un'infanzia felice, un buon rapporto con i miei genitori in un contesto come quello siciliano, catenese, non semplicissimo però in una famiglia della classe media in cui mio padre è laureato, mio padre lavorava, mia madre lavorava part time, insomma, eravamo una famiglia che non era particolarmente benestante ma che faceva anche la settimana di vacanza in estate in un clima di serenità, tra l'altro essendo parte di una famiglia più grande perché mia mamma ha tre sorelle con tutti i vari nipoti, cugini, siamo sempre stati molto in compagnia come da stereotipo forse sulle famiglie del sud. Rispetto alle coccole c'erano o no? Rispetto alle coccole c'erano, io sono sempre stato un tipo, io sempre no, adesso lo sono anche meno probabilmente, però all'epoca ero molto poco fisico, quindi magari più di parole ma soprattutto di gesti e meno di smancerie, mentre invece mio fratello era quello drogato dal contatto fisico, però devo dire che questa cosa in me è un po' cambiata poi con l'età probabilmente. Nel senso che ti sei lasciato andare adesso? Nel senso che sì, sì, adesso sono anche molto fisico, anzi ho proprio bisogno del calore umano, ma non solo con la mia fidanzata, io sono uno che abbraccia gli amici, sono uno che bacia le persone, forse mi sto infilando ancora di più nello stereotipo di quello del sud, però ho bisogno del contatto fisico con le persone. Avendo avuto un'infanzia abbastanza intellettuale, almeno gli impulsi, nel senso i giochi che hai descritto, avevi tanti amici che corrispondevano a queste cose o eri solo? Non molti, non molti, poi avevo anche altre cose, quindi non è che non mi divertissi a giocare a pallone, ho fatto gli scout per un sacco di anni, insomma avevo anche altri interessi ovviamente, però la mia non è stata un'infanzia, un'esperienza anche scolastica dal figo della scuola, dal popolare, non che fossi bullizzato, però ero uno abbastanza anonimo. Eri un freelancer già in quel momento? Sì, sì, ero uno che non si faceva notare né perché era quello che dava fuoco alla classe, né perché prendeva tutti i dieci, o era particolarmente simpatico, o particolarmente forte a calcio, o brillante con le ragazze. Potrebbe tranquillamente essere che una parte significativa dei miei compagni di scuola, dell'elementare e delle medie non si ricordassero di me, non si ricordino di me. Eri trasparente, nel senso che facevi un po' la tua partita. O forse, sai, potrei dirti io mi sentivo così, magari un altro ti direbbe no, non è vero, tu eri super ben voluto, non lo so, io mi sentivo abbastanza trasparente. Medie, superiori, come va? Fino alle elementari e alle medie va molto bene, molto tranquillamente, nel senso che io non ho ricordi di me che studio. Io mi ricordo che frequentavo la scuola, mi piaceva tanto, facevo i compiti, le cose da ricopiare, eccetera, ma non mi ricordo di aver mai studiato davvero, di aver preparato un dettato, cioè la scuola per me era un'esperienza molto leggera. Alle superiori si deve cominciare a studiare, e il primo impatto non fu facile. Ricordo anche che, avendo io preso ottimi voti per tutte le scuole elementari, i miei hanno molto poi insistito con me, con mio fratello, sul fatto che studiare era importantissimo, era fondamentale, che ci tenevano molto, e avendo io questa specie di impare a leggere a quattro anni, studi, vai bene senza fatica, avendo ormai, non dico delle aspettative, ma delle speranze su di me, io prendo una pagella, la prima pagella delle scuole superiori terribile, piena di insufficienze. Cioè forte sulle materie umanistiche, meno scure scientifiche. Ma anche su quelle umanistiche male, perché io non ero abituato a studiare, ma non sapevo studiare, non sapevo come si faceva a prendere tre pagine di testo e impararle, e trarne delle cose, perché non... Cioè il metodo? Sì, sì, a me all'elementare e alle medie mi bastava ascoltare e imparavo, quanto mi bastava per poi saper rendere nel resto, e invece al liceo non lo puoi più fare, devi studiare, devi esercitarti, devi capire le cose, e mi ricordo anche appunto che un momento di mia madre abbastanza sorpresa, scossa, perché completamente inaspettato dal fatto che andata all'incontro con i professori le avessero detto che questo ragazzo non va bene, non funziona, non si applica, però mi sono reso conto insomma di quale fosse il problema, mi sono anche spaventato, devo dire, forse anche avendo, percependo, diciamo, l'aspettativa dei miei genitori e il fatto che quella fosse la cosa giusta da fare e ho imparato a studiare, quindi poi mi sono ripreso, pur capendo al contempo che avevo scelto la scuola sbagliata, perché rispetto alla cosa che dicevi prima avevo scelto il liceo scientifico scoprendomi totalmente inadeguato e incompetente alle materie scientifiche. Hai switchato? No. Cioè hai cambiato? Non ho switchato perché mi trovavo molto bene nella mia scuola, era una bella classe con degli amici, dei compagni, qualcuno che sento tuttora, c'era un bel clima in generale, ci si divertiva molto, c'era una goliardia, diciamo, ma affettuosa, scherzi, gite insieme, uscivamo molto, quindi non volevo andarmene a cambiare classe, era un po' una comunità per me quella lì. I professori lo hanno un po' capito che io avevo scelto la scuola sbagliata, ho preso lezioni private di questo e di quello, insomma alla fine ce l'ho fatta, sono uscito non con il migliore dei voti, sono uscito con 80 centesimi, però insomma senza nessun rimpianto. E data la maturità che fai dopo? Data la maturità sapevo di dover fare una qualche facoltà universitaria umanistica, perché quella era la cosa che più mi attraeva, non avevo voglia di cominciare a lavorare e devo dire, questa è un'altra cosa, secondo me, non so se è poco raccontata, ma io l'ho capito a un certo punto, il contesto della Sicilia e di Catania non rendeva la prospettiva di lavorare allettante, perché non è che ci fossero tutte queste opportunità, tutte queste possibilità che in altri posti magari esistono di dire, boh, però se entro in azienda adesso o questa azienda fa delle cose che mi piacciono, non esisteva quella possibilità e quindi a volte ci si iscrive all'università soltanto per rimandare il momento delle decisioni importanti. Mi iscrivo a scienze politiche, mi iscrivo a scienze storiche, a Catania, a Catania, ci metto un anno in più del dovuto per pigrizia, perché poi a quell'età a volte non è sempre facile concentrarsi sulle cose. Era una triennale? Era una triennale, mi laureo, anche in quel caso con un buon voto ma non con un voto particolarmente eccezionale e capisco durante quegli studi lì che cosa voglio fare, che voglio fare il giornalista e capisco anche che non lo posso fare a Catania e decido di andare via, di andare a Roma. Come fai a capire che vuoi fare il giornalista? Cioè vedi un film, c'è una persona, c'è qualcuno che ti illumina? Allora, la cosa io credo di averla capita più o meno tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle superiori, intuita forse, mi appassionai moltissimo alla Seconda Guerra Mondiale, studiando per l'esame della licenza media, delle scuole medie, cominciai a leggere libri sulla Seconda Guerra Mondiale, era una storia piena di mille altre storie, ogni coperchio che aprivi ne venivano fuori 40, per me avevo appunto 14, 15, 16 anni, fu una roba abbastanza sconvolgente e mi ricordo che fu sconvolgente il tentativo che poi vedevo libro dopo libro avvenire in modi molto diversi di non tanto raccontare che cosa accadde ma spiegare le ragioni per cui accadono le cose e quella cosa mi è rimasta molto attaccata e poi è il motore che fa sì che oggi faccia ancora questo mestiere. Poi nel corso degli anni dell'università ho capito che quella cosa lì non era soltanto un impulso ma poteva essere una professione che per essere svolta correttamente andava supportata da una serie di conoscenze, di studi, di esperienze, indagare la realtà comporta conoscere tecniche, approcci, aver letto, aver studiato e ha preso forma quindi davvero negli anni dell'università ma ce l'avevo con me da prima. Ma qual è il sottotitolo che hai nella tua testa rispetto al giornalista? Cioè se una persona vuole entrare nelle forze dell'ordine magari quando è un po' ragazzino dice voglio difendere gli altri voglio mettermi a servizio del cittadino invece un giornalista che tipo di supereroe è nella testa di una persona che lo vuole diventare? Allora è un supereroe che ha due poteri entrambi molto affascinanti lo so che con due poteri è strano è strano questa cosa che i supereroi ne hanno sempre uno solo però ne ha due il primo che è un grandissimo privilegio ed è quello che poi solletica di più il nostro ego la nostra vanità è essere la persona che racconta qualcosa che è successo e che gli altri non sanno io so qualcosa che tu non sai e io adesso te la dico e questo rapporto che chiaramente è anche un rapporto di forza diverso è una cosa molto seducente molto gratificante quando avviene che se prendi come unica diciamo bustola nella vita ti rischia di portarti su strade sbagliate però è molto bella quella roba lì su strade sbagliate perché pur di scovare sempre la notizia rischi di andare borderline oppure puoi dirla grossa soltanto per avere il brivido dell'attenzione sparare una stupidaggine al giorno e l'altra cosa che invece è quella diciamo più importante più complicata è un po' più nascosta è forse il vero superpotere essere quello che capisce le cose essere quello che sai quando Neo comincia a vedere la matrice essere la persona che prova ovviamente prova figurati prova a fare quella roba lì tuo papà e tua mamma quando decidi di fare il giornalista glielo dichiari e quanti laurei che reazione hanno avuto? Allora sono stati entrambi molto diciamo come dicevo mi hanno molto sostenuto è un'espressione banale però diciamo sempre cercato di farmi coltivare i miei interessi senza pilotarli dall'esterno e inoltre mio papà che faceva un mestiere totalmente diverso dalla scrittura dal giornalismo lavorava in Dogana alla Dogana di Catania portuale? sì ma negli uffici era il direttore tributario bolle, carte, container che arrivano e cose da stoganare via mare esatto fax ricordo nel suo ufficio di aver visto i fax telex tutte delle robe oggi non sapete nemmeno dire cosa servivano però scriveva per diletto era uno che scriveva le poesie umoristiche sui colleghi dei raccontini brevi oppure dei piccoli saggi politici sull'attualità ma davvero per tempo libero li mandava all'epoca non c'erano neanche le mail li stampava credo per parenti stretti amici persone di cui si fidava e quindi poi il fatto che io volessi coltivare quello stesso tipo di interesse di passione attraverso la scrittura credo che per lui fosse molto bello insomma e quindi mi invitasse mi incitasse a farlo anche per questo quando eravate piccoli guardavate il telegiornale mentre cenavate cioè che rapporto avevate con la cultura collettiva in casa un rapporto forte si guardava sempre il telegiornale la mattina io ricordo tutte le colazioni della mia vita col TG5 quella musichetta che potrei adesso siamo ancora a memoria col rullo continuo tra l'altro delle notizie quindi mi ricordo mentre facevo colazione con tutta la lentezza di un bambino eccetera anche sentire passare due o tre volte il rullo delle notizie la serie il telegiornale noi siamo stati sempre una famiglia che ha pranzato e cenato con la televisione accesa che non so che non è diciamo il massimo della vita però guardando il telegiornale per esempio e quindi anche parlandone un po' senza fare chissà che grandi discorsi però c'era quella cosa ma per capire ciò che dicevano quando eri proprio piccolo traduceva il papà cioè per rendere semplice quel linguaggio sì chiedevo delle cose chiedevo delle cose il papà soprattutto perché il papà seguiva molto la politica era un militante del partito comunista italiano che tra l'altro appunto in Sicilia non era come essere in Emilia Romagna leggevo un sacco di libri e questa è l'altra parte della risposta a casa nostra è sempre stata piena di libri di romanzi di saggi di libri di libri sull'Enin io mi dovevo chiamare Vladimir se avessi deciso mio padre mi sarei chiamato Vladimir mia madre per fortuna diciamo si oppose a questa scelta e quindi mio padre ci ha sempre detto molto che i libri sono importanti che bisogna leggere ci regalava i libri e quindi anche quell'imprinting sicuramente è servito ti laurei e cosa fai? mi laureo e appunto decido che devo andar via da Catania se voglio fare questo mestiere perché non c'erano possibilità di lavorare in una redazione c'è un quotidiano soltanto Catania che si chiama la Sicilia che è un quotidiano locale che ha una storia anche piuttosto complicata di anche accuse di vicinanza ad ambienti adesso non voglio essere querelato ma diciamo è un giornale che sono molto discusso nell'ambito del suo rapporto col racconto della criminalità organizzata della mafia in Sicilia è comunque un giornale in crisi in difficoltà un giornale perennemente in crisi se c'è poi una sola azienda che può darti lavoro è difficile fare un investimento personale su quello pochi tv locali nessuna rivista mi mancava il come e quella non era ancora l'epoca dei social stavano appena cominciando a prendere vita i blog cioè non è che tu da solo davanti a un computer oggi puoi stare in qualsiasi parte d'Italia e diventare qualcuno perché puoi pubblicare dei contenuti con grande facilità all'epoca non era ancora così serviva che qualcuno ti pubblicasse quindi dovevo andare via dovevo cominciare cioè tu non eri interessato al mondo audiovisivo alla televisione da un punto di vista giornalistico ma più nella scrittura sì esatto poi sono sempre stato e sono ancora anche se adesso la giro in qualche modo molto timido l'idea di parlare in pubblico di andare in tv non la vedevo proprio nelle mie corde mentre invece scrivere mi veniva meglio ed era un'attività che potevo fare nel chiuso della mia cameretta però non si poteva dove cominciare nessuno nella mia famiglia faceva questo mestiere aveva mai fatto questo mestiere non conoscevo nessun giornalista sono quelli che vedevo in tv e quindi boh che si fa si iscrive a qualcuno come cosa dovevo mettermi in un contesto in cui dovevano potermi capitare delle cose e c'era questo corso di specializzazione a Roma parliamo del 2000 e? mi sono laureato alla fine del 2006 quindi a quel punto avevo già preso insomma un po' le idee su cosa fare corso di specializzazione in giornalismo tra i docenti c'erano dei giornalisti di cui io mi scrivo qui non solo studio imparo ma magari conosco dei giornalisti mi faccio raccontare e mi faccio spiegare non è stata una scelta semplice un po' perché è sempre poi difficile lasciare casa tua tua mamma tuo fratello mio papà era morto poi tra l'altro è morto nel 98 io avevo 14 anni e quindi mia mamma da sola con mio fratello che lavorava non me l'hai raccontato nell'ordine cronologico delle cose perché l'hai rimosso perché non vuoi emotivamente pensare a quel momento no 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 semplicemente perché non ci è entrato ma insomma un momento complicato ovviamente duro nella vita di un ragazzino poi ovviamente ti ha creato dei traumi una sofferenza ha cambiato qualcosa dentro di te sicuramente sì sicuramente sì poi è sempre più difficile dire in che modo queste cose si ripercuotono puntualmente sulla persona che diventi però non si può nemmeno insomma è chiaro che è un trauma ed è una sofferenza ed è un dolore ed è una cosa anche che cambia le dinamiche interne a una famiglia e il modo in cui si comunica non è stata una storia di per sé straziante di lunghissime malattie eccetera ma una cosa molto improvvisa e devo dire forse mi ha insegnato o forse è consolatorio pensarlo non lo so qualcosa sul valore del tempo del tempo che passi con le persone le banalità che a volte ci raccontiamo sul non sprecare il tempo con le persone perché non sai davvero che cosa succederà domani che sono delle banalità da diario però poi hanno un grande fondamento di verità quando ti rendi conto nella tua vita che certe cose non le puoi più fare non le puoi più dire non le puoi più condividere a me dispiace sempre molto ed è un eufemismo che mio papà non abbia visto tutto quello che è successo dopo nella mia carriera sapendo anche che gli sarebbe piaciuto tantissimo che avremmo discusso moltissimo di politica dato che io sono per niente comunista e non ho un giudizio diciamo favorevole di quell'esperienza storica ma sarebbe stato molto divertente sarei cambiato sarei cambiato sicuramente avendo quel tipo di confronto da adulto con mio padre mi dispiace molto di non poterlo avere quindi ogni mattina quando guardavi il telegiornale non c'era più lui ti provocava qualcosa nessuno è allenato emotivamente ad entrare in quelle sfere però magari è interessante farlo cosa ha cambiato di preciso quando ti hanno dato la notizia in quel momento dal giorno successivo in poi è cambiato qualche piano che tu avevi nella testa ci sono state nella famiglia delle dinamiche che hanno appunto sovvertito dei progetti che avevate nel nucleo familiare ti va di parlarmene un po' meglio se non ti va andiamo avanti no 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 possiamo possiamo dunque devo dire ricordo lo shock naturalmente e non ho però un ricordo immediato di un grandissimo dolore di una grandissima disperazione stranamente ricordo anche di essere stato sorpreso da questa mia reazione non so se è guidata dallo shock appunto per cui non capisci davvero non elabori quello che è successo dal fatto che vedevo tutti attorno a me molto preoccupati per me per mio fratello tutti gli adulti della famiglia naturalmente e quindi nel desiderio di rassicurare gli altri di mostrarmi più forte o di essere più con l'esempio ma protettivo nei confronti di mio fratello però ecco mi ricordo di esserci passato attraverso e ricordo di averci messo poi un po' e con lentezza non è che c'è stato un giorno in cui sai sono scoppiato a piangere davanti alla tv eccetera però ricordo che poi con lentezza questa cosa sai come una specie di di masso che sprofonda nelle sabbie mobili nell'argilla cioè non velocemente ma lentamente quella roba lì ci cominci ci continui a pensare ovviamente ci penso diciamo c'è un giorno in cui non penso a mio padre in qualche momento della mia giornata anche in un istante una roba io porto il suo orologio insomma cerco di essere non cerco mi viene naturale di tenermi in contatto con quei ricordi però ti dà più forza che sconforto oggi sicuramente sì e devo dire mi ritengo anche molto fortunato perché poi percepisco che questa cosa poteva segnarmi in tanti modi che potevano peggiorare la mia vita nel lungo termine cioè crearmi un trauma che mi impedisse di fare delle cose che mi portasse a uno stato di sconforto da non voler più intraprendere certi percorsi o da rifiutare magari il mondo della scrittura del giornalismo perché mi ricordava molto una cosa che non c'era più un'esperienza che non potevo più avere e invece è caduto il contrario la sofferenza è stata una sofferenza che per fortuna e per effetto anche delle persone attorno a me non è stata paralizzante quando ero piccolo il mio papà era malato mi diceva spesso sono il più grande dei tre fratelli se morirò sarai l'uomo della famiglia come per dire dovrei prendere le redini me lo diceva già quando avevo 13, 14, 15, 16 anni è successo così per te? Cioè si è diventato l'uomo di casa o tua mamma è riuscita a tenere il timone ha tenuto in piedi tutto? mia mamma è stata decisamente l'uomo di casa e questo forse è parte del motivo per cui personalmente non ho sbandato e come famiglia non abbiamo sbandato perché per fortuna ma anche facendo un sacco di sacrifici perché mia madre lavorava part time noi eravamo in due entrambi saremmo poi andati all'università abbiamo preso la pensione di reversibilità di mio padre però a quel punto non si stava più benissimo mai avuto problemi di mettere il cibo in tavola abbiamo sempre fatto una bella vita siamo sempre anche andati in vacanza ma delle vacanze più piccole diciamo dovevate stare un po' più attenti anche rispetto ai soldi che ci venivano dati come paghetta a me e a mio fratello ma mia mamma non ci ha mai detto andate bene a lavorare trovate un lavoro estivo anche delle cose normalissime non è che sarebbe solo disdicevole anzi a ripensarci mi sono detto avrei certamente potuto andare a lavorare al pub in estate e contribuire un po' aiutare un po' mia madre invece mia madre non solo non ce l'ha mai chiesto ma anzi ci ha sempre incentivati a vivere la nostra vita da adolescenti pensando a studiare e quella era la cosa più importante e a essere degli adolescenti e mi rendo conto anche che me ne sono reso conto poi crescendo si è caricata molto il ruolo di padre nonostante poi chiaramente è impossibile da riprodurre da fare entrambe le cose e chiaramente mia madre non è che poteva insegnare a me e mio fratello a farci la barba quelle cose o a farci il nodo alla cravatta quelle cose che di solito ti insegna il padre in una famiglia eppure sulle cose importanti quelle più solide più forti di prendere delle decisioni importanti di passare momenti insieme c'è stata e ha funzionato alla fine post laurea fai questo corso? no lo mollo vado a Roma comincio a studiare non conosco nessuno sono appena arrivato sono molto motivato e anche molto responsabilizzato dal fatto che sto spendendo dei soldi non miei e che per mia madre era un grande sacrificio perché appunto non guadagnava tanto e io dovevo mantenermi a Roma soltanto la stanza costava più di 400 euro poi la vita lì i viaggi i libri e quindi comincio a dare tutte le materie a tempo di record e prendo sempre 30 e lode perché sono una macchina e non ho altro da fare questa condizione però non dura molto quando arrivi in una città nuova e se la città è come Roma e l'università e la sapienza a un certo punto ti fai degli amici conosci delle persone cominci a fare altro ad avere altro nelle tue giornate oltre a studiare e io mi sono trovato a essere contemporaneamente molto stanco dell'università di studiare questo corso si è rivelato utile ma non quanto io sperassi ho conosciuto delle persone molto interessanti ho scoperto un mondo una fertilità culturale intellettuale a Roma che a Catania mi mancava molto e ho cominciato a frequentare le presentazioni dei libri e andare a vedere i giornalisti che seguivo di più e andarle a vedere di persona cosa che a Catania era impossibile invece a Roma c'era ogni giorno un pomeriggio un evento diverso ho cominciato a conoscere persone che facevano lavori che avrei voluto fare che frequentavano mondi che avrei voluto frequentare dai giornali alla politica all'attivismo come fai a studiare? cioè nel senso avevo troppe distrazioni avevo troppo da fare e quindi ho capito che dovevo trovare venire a Roma perché volevo fare quello ma anche di mantenermi da solo perché non potevo dire a mia madre continua a pagarmi mentre io boh frequento dalla gente interessante e a quel punto siamo nell'estate del 2007 sì io decido di mollare l'università ed erano già parecchi mesi che di fatto non studiavo più decido che devo trovarmi un lavoro capisco che ho poco tempo a disposizione e capisco anche che voglio anche diciamo essere rispettoso nei confronti dei soldi di mia madre e quindi decido dato che è estate di mollare la casa la stanza che avevo in affitto e mettere una tenda in un campeggio sul lago di Bracciano avevo la macchina perché a Catania appena compi 18 anni devi avere la macchina se no non puoi vivere se non puoi guidare il motorino che però rischia di ucciderti e quindi avevo la mia macchina con tutti i miei averi dentro avevo mollato vestiti libri tutta una utilitaria e stavo in campeggio sul lago di Bracciano luglio agosto settembre nonostante fosse alta stagione eccetera spendevo molto meno facevo anche una vita abbastanza frugale che mangiavo in campeggio quindi si stava anche molto bene scrivevo degli articoli dalla mattina alla sera col portatile arriva al lago e poi andavo all'ufficio postale di Trevignano romano sempre sul lago di Bracciano dopo averli stampati in un internet point li spedivo fisicamente visto che avevo visto che spedirli via mail non funzionava in tutte le redazioni d'Italia o quasi senza che nessuno abbia mai risposto tant'è che a un certo punto le settimane passano io capisco che questa cosa qui deve prendere un certo giro scrivevi articoli a modi provini per far sì di gestare interesse di qualche redazione esatto scrivevo delle cose su delle notizie in corso chiaramente senza fare nessuna attività mia di reporting quindi per me era complicato non è che avesse delle notizie non potevo riraccontami una cosa esatto e quindi lo facevo soprattutto con le cose di esteri perché le cose italiane chiaramente le sapevano già straraccontate bene dai giornali mentre invece se trovo una storia in Sri Lanka su un giornale in inglese potevo raccontarla in Italia consultavo tre o quattro fonti e mettevo insieme un articolo e la storia tra l'altro che mi attraeva di più in quel periodo lì era la storia di Obama questo senatore afroamericano dal nome strano che si candidava alle primarie del partito avendo nessuna speranza di vincere perché l'avversaria era Hillary Clinton la classica storia Davide contro Golia avveniva negli Stati Uniti insomma era affascinante e cominciamo a scrivere e a mandare pezzi soprattutto su questa storia ma insomma non mi rispose nessuno veramente nessuno e a un certo punto io capivo che me devo tornare a Catania perché quanto posso stare in campeggio a settembre a un certo punto anche il clima sul piano atmosferico diventa inadatto a star lì al di là del fatto che io percepivo che non stava funzionando e comincia a piovere forte tanto e a un certo punto io una notte mi sveglio con l'acqua dentro la tenda e quindi vado a dormire in macchina e in tenda c'è tutta la mia roba bagnata insomma non è niente di grave però sai quelle situazioni in cui dici come cazzo sono finito io a trovarmi non hai pensato di mollare quel lavoro in quel momento e di cambiare scenario per il tuo futuro? allora di cambiare scenario sul futuro diciamo a lungo termine no però in quel momento avevo bisogno di arrangiarmi pur di stare a Roma quindi a un certo punto io presi anche appuntamento per un colloquio che poi non feci perché avvenne il temporale famoso per fare il tecnico che ripara computer ma io non ci capivo nulla cioè io avrei improvvisato non so cos'è la differenza non so riconoscere una scheda madre però si arriva qualcosa di pratico dovevi guadagnare soldi dovevi guadagnare dei soldi perché potessi pagarmi la possibilità di restare ancora a Roma e continuare a provare a fare questo mestiere qui però quando appunto ho tutto bagnato il sacco a pelo bagnato e sento anche una certa umiliazione nel fatto che non ha funzionato ricarico mi rimetto tutto in macchina umiliazione nei confronti tua o di tua madre? boh mia sai mi sento anche a quel punto un po' un cretino perché cioè ma che cosa cavolo pensavi di fare adesso tu questo va tre mesi in campeggio manda dei curriculum e diventerà un giornalista cioè mi immagino anche molte persone che provano a fare questo mestiere che ascoltando questo racconto possano pensare ma vai a quel paese cioè che cosa presuntuosa no? mi metto lì scrivo mando e aspetto che squilli il mio telefono e mi sentivo molto scemo per aver pensato che potesse essere una buona idea e che potesse funzionare non solo avevo buttato dei soldi cioè potevo essere a Catania non aver pesato ulteriormente sul bilancio della mia famiglia e quindi prendo tutte le cose le metto in macchina torno giù a Catania e aspetto aspetto di capire aspetto di decidere aspetto di insomma di lavorare avevi un giornalista mentore in quel momento cioè avevi una reference che ti spronava dove dicevi cavolo io devo fare esattamente magari in un italiano quello che fa lui perché mi piace quel linguaggio mi piace quell'approccio no non ce l'avevo avevo delle giornalisti che stimavo che seguivo ma che vedevo molto come lontanissimi da me fammi un paio di nomi se li ricordi sì Michele Serra che leggevo su Repubblica Enzo Biagi lo vedevo in tv all'epoca credo che il direttore del Corriere fosse De Bortoli ma ricordo che il Corriere della Serra mi trasmetteva un'aria di grandissima dell'istituzione mi sembrava di essere davanti a un ministero quando guardavo le pagine del Corriere al prodotto di una roba veramente lontanissima da me devo dire che in quel momento la comunità e i punti di riferimento che mi stimolavano e mi tiravano fuori delle cose erano più le persone che frequentavano il mondo dei blog erano appunto gli anni in cui c'era questa specie di blogosfera italiana piccola molto autoreferenziale ma in cui si pubblicavano quotidianamente delle cose dei post e non erano giornalistici ma c'era molto di commento dell'attualità di scrittura anche un po' tagliente di analisi di racconto di segnalazione di cose che venivano online e diventai una persona che sta molto su internet in quella fase lì apri il tuo avevo anche un mio blog e come facevi ad avere un pubblico all'epoca chiamavamo pubblico anche tipo 70-80 persone al giorno che venivano sul tuo blog che non era neanche poco non c'erano i social quindi in una larga parte quando riuscivi a far sì che qualcuno linkasse un tuo post perché poi molto della blogosfera di questi post erano ho letto una cosa da te e la commento o la segnalo o espando ci si parlava anche un po' addosso però io vedevo che tutte queste persone dei blog si conoscevano tanto tra loro si frequentavano era un mondo che ripetava tantissimo attorno a Roma e Milano molto Milano peraltro e quindi percepivo che era molto difficile per me farmi notare da questi qui che poi andavano a bersi il bicchiere di vino la sera mi capitava anche di fare delle cose che adesso se ci ripenso mi vengono i brividi tipo di mandare delle mail a qualcuno segnalando un mio post che se ci penso oggi quando capita a me dico ma figlio mio a un altro blogger intendi sì ciao sono un tuo lettore ti va di leggere la cosa che ho scritto e dirmi che ne pensi che non è che sia una cosa cattiva lo dico oggi ricevo molte mail come questa per oggi so che è molto complicato leggere tutte le cose che le persone ti chiedono di leggere puoi trovare il tempo fisicamente per farlo e bisogna dire che purtroppo nella gran parte dei casi non sono delle cose che diciamo di grande valore rilevanti dici ogni tanto capita però nella gran parte dei casi sono delle cose dignitosissime però che in quanto tuo diario personale non hanno una rilevanza pubblica e quindi però voler c'era fare sui blog che per me voleva dire anche avere un primo pubblico che le persone commentavano quello che scrivevo non mi era mai successo prima tutto gratis no? totalmente gratis stavo di piattaforme quelle lì blogger.it blogspot era anche un modo mi costringeva a entrare in relazione con queste persone a leggere però era un bel allenamento moltissimo moltissimo una grande palestra anche perché io scrivevo poco leggevo tantissimo scrivevo un post al giorno uno ogni due giorni ma passavo tutta la giornata a leggere cose a un certo punto il mio giornalista di riferimento è diventato un blogger che poi ho avuto anche la fortuna che fosse il mio capo il mio vero mentore della carriera che è Luca Sofri l'attore direttore del post perché lo leggevo lo ammiravo e volevo essere quella cosa lì lo leggevi sul suo blog? sì come si chiamava il suo blog? Wittgenstein esiste ancora ed fa parte del post un giornalista che vedevo come molto brillante capace di dire delle cose intelligenti che mi facevano sempre ragionare sulle cose ma che non mi sembrava per niente uno che si prendeva sul serio che maneggiava con molta disinvoltura la cultura pop che scriveva delle cose brevissime da tre righe anche molto lapidarie e poi delle robe sterminate e lunghissime sempre mettendosi molto dalla parte di chi legge ammiccando coinvolgendolo nel racconto e non mettendosi su un piedistallo con una scrittura anche un po' originale e quindi mi faceva anche capire che si poteva scrivere rompendo alcune regole se lo fai con intenzione puoi violare qualsiasi regola il problema è quando non sai che c'è una regola e a quel punto sbagli ma se io decido di mettere tre due punti consecutivi in una frase e lo faccio volutamente può non piacerti ma è una scelta estetica e Luca mi mostrò molto che si poteva scrivere in un modo un po' più creativo e quello era davvero poi in un certo punto il mio modello più che un giornalista dalla carta stampata torniamo alla tenda inzuppata dei tuoi averi e tu vai a dormire nell'utilitaria decidi di tornare a Catania torno a Catania per un po' aspetto appunto di farmi un'idea di capire però devo dire non arrivo nemmeno a completare questi pensieri perché succede che a un certo punto qualcuno effettivamente mi chiama mentre io ero in macchina a Catania uno dei semini che avevi piantato era germogliato esatto il semino era germogliato nella sede dell'unità quotidiano l'unità che oggi non esiste più che si trovava in una condizione abbastanza particolare perché era stato appena comprato da un nuovo editore che era Soru con molte ambizioni non solo imprenditoriali ma anche politiche era il presidente della Sardegna c'era una nuova direttrice una direttrice donna e tuttora in Italia una grandissima rarità ce ne sono due direttrici donna in Italia di giornali all'epoca all'unità poi era una cosa diciamo rivoluzionaria la direttrice era Concita del Gregorio quindi anche un'altra generazione un altro piglio un altro approccio ed era in una rara situazione in cui puoi spendere dei soldi perché l'editore ti ha detto cambiamo sto giornale l'unità aveva già una redazione ed era una redazione che aveva molte qualità ma che era un po' attempata perché era la redazione dell'unità il giornale del PC e quindi Concita provava a inserire un po' di forze nuove a te non interessava lo schieramento politico della testata tu le iscrivi era un'opportunità e basta era un'opportunità e basta e io mi avevo mandato curriculum a giornali di ogni orientamento sarei andato a lavorare dappertutto devo dire sono stato più contento di andare all'unità che sarei stato di andare al giornale cioè mi sentivo comunque più vicino a quel mondo lì l'unità era a casa mia quando ero ragazzino era un giornale per me familiare sarei andato dappertutto nel senso non era quello l'obiettivo però non mi dispiaceva essere all'unità e anzi di nuovo mio padre portava l'unità a casa per me il fatto che io lavorassi all'unità era una chiusura del cerchio perfetta però io non conoscevo Concita di Gregorio lei non conosceva me però tramite il curriculum lei scoprì o qualcuno per lei lì non so chi apri poi le buste effettivamente scoprì che io avevo lavorato per Ivan Scalfarotto come responsabile di una sua campagna elettorale all'epoca facevo anche il volontario e lo staffer nelle campagne elettorali perché mi attirava molto la politica avevo lavorato al comitato Beltroni nel Partito Democratico nel 2007 facendole quella manovalanza non è che avesse incarichi politici volantini manifesti organizza l'evento sposta le sedie frenota il pullman e mentre lo facevi avevi un po' l'intenzione o il sogno o il pensiero di diventare un politico in futuro? Allora di diventare un politico no poi forse in una parte della testa sì ma mi piaceva molto in quel momento i lavori della politica avrei amato fare lo speech writer oppure lo spin doctor il responsabile della comunicazione della strategia mi piaceva molto quell'idea tant'è che poi Scalfarotto non viene eletto in quelle elezioni è il primo dei non eletti e per me quello è un po' un bivio perché era aprile del 2008 io ho già smesso diciamo di lavorare in tenda ma non lavoravo ancora all'unità avevo trovato questo specie di lavorettino e insomma quello che succede è che io capisco che se Scalfarotto viene eletto io posso finire in Parlamento con lui lui me lo dice me lo fa capire che poteva essere il suo collaboratore parlamentare lui non viene eletto quella cosa salta e quindi io continuo a mandare articoli a provare a frequentare il mondo dei blog eccetera insomma succede che alla fine lei conosce Scalfarotto con città di Gregorio e quindi avendo visto questa cosa lo chiama e gli chiede senti sto tipo com'è chi è Scalfarotto per fortuna e non gliene sarò mai abbastanza grato gli dice è uno in gamba è uno sveglio scrive bene ha un sacco di idee eccetera conoscilo per cui vengo convocato a Roma con questa telefonata faccio un primo colloquio con l'allora vice direttore Luca Landò che mi dice guarda sei interessante io non vedo tra l'altro concita prima di essere assunto se non ricordo male mi dice noi cerchiamo qualcuno che possa lavorare al sito dell'unità moderando i commenti dei lettori non per scrivere quindi e avrei avuto un contratto a progetto non un contratto giornalistico io figurati stavo per baciare per terra certo volentieri entro in redazione ho un lavoro è un lavoro giornalistico mi pagano due lire torno a Roma quindi di gran corsa da Catania mi traduci in moderare i commenti sì io dovevo leggere tutti i commenti che erano venivano pubblicati dai lettori dell'unità sotto gli articoli ogni articolo aveva una sua sezione commenti e decidere quali venivano pubblicati e quali no le mie direttive erano di non far passare tutti i commenti diciamo illegali diffamazioni calugni insulti eccetera e tutti i commenti molto incivili cioè mantenere un clima di una comunità che discuta anche in modo acceso ma senza troll senza violenza verbale un'esperienza tra l'altro abbastanza assurda un'altra grande palestra sì perché io entro a novembre del 2008 Berlusconi aveva vinto da pochissimo le elezioni le elezioni che Scalfrotti aveva perso appunto prima dell'estate in cui io passo al lago e quindi immagina l'umore medio del lettore dell'unità quando Berlusconi ha appena stravinto le elezioni erano tutti incazzati neri non solo con Berlusconi ma anche tra di loro di Pietro contro il PD io passavo le giornate in silenzio a moderare i commenti tornavo a casa come se mi avessero urlato nelle orecchie tutto il giorno però ero in una redazione c'era una felicità che non so nemmeno descrivere io tra l'altro arrivo appunto a novembre torno a Roma non ho una casa vado a stare dai miei zii che abitano a Monterotondo e che anche loro parte di questa storia che devo ringraziare mi ospitano per un po' finché io non trovo una casa e faccio avanti indietro da Monterotondo quanti soldi ti danno quando ti assumono all'unità? avevo un contratto da mille euro l'orde che volevano dire 850 nette era un contratto a progetto che non sono tanti per vivere a Roma però ci siamo arrangiati avevo una fidanzata all'epoca o meglio all'epoca non era ancora la mia fidanzata eravamo in una fase di trattative che si stava prolungando parecchio si stava prolungando così tanto che abbiamo scelto di andare a vivere insieme prima di scegliere se stare insieme oppure no cioè diciamo dare un nome al nostro rapporto ci metteva molto in difficoltà però dire affittiamo una stanza ci stiamo insieme poi non ci metteva nessuna difficoltà e però abbiamo affittato una cosa che potevamo permetterci era una specie di garage con una porta finestra ma era un'unica stanza un bagno in cui era possibile stare seduti sul water fare la doccia il bidet lavarsi i denti contemporaneamente per quanto era piccolo ed era anche la cosa dato che lei non lavorava e io avevo questo contrattino poi lei trovò qualcosa da fare ma insomma fu complicato anche quella fase lì però lavorava all'unità stavo in redazione piano piano cominciai anche a ritagliarmi qualche spazietto mi fanno fare un'intervistina minuscola per il sito la squadra di calcio del Catania vince il derby contro il Palermo 4 a 0 e solo perché sono catanese i colleghi dello sport dicono fallo tu il pezzo sul Catania che ha vinto contro il Palermo ma impari assisti alle riunioni quando moderavo i commenti durante i video forum erano dei momenti in cui il giornale ospitava politici che venivano da fuori e li intervistava in video e io dovevo moderare i commenti per poi dare le domande della community io stavo lì a guardare altri giornalisti colleghi molto esperti che intervistavano i politici per me soltanto guardare quella roba vederli prepararsi prima commentare dopo com'era andata ho imparato tantissime cose e poi che succede dopo questa esperienza quanto tempo lavora l'unità? il mio contratto era un contratto da sei mesi sei mesi nei quali Soru fa in tempo a perdere le elezioni in Sardegna lui voleva essere rieletto ed era uno step diciamo abbastanza obbligato se lui voleva avere davvero delle ambizioni nazionali e invece lui perde quelle elezioni anche in modo piuttosto clamoroso la sua carriera politica finisce in sostanza lui decide che vuole concentrarsi sugli affari e non vede più una strada e quindi decide che l'unità non gli serve più almeno questo è quello che io penso che il modo in cui sia andata lui la racconterà sicuramente in modo diverso fatto sta che smette di investire nel giornale il giornale va abbastanza dall'oggi al domani in stato di crisi perché il giornale non stava in piedi se qualcuno non ci metteva liquidità ma non chiude non chiude il giornale va in stato di crisi e quindi si apre un negoziato con l'azienda e in questi casi quello che si fa standard e si faceva molto soprattutto all'epoca è per evitare licenziamenti la prima cosa da fare è che tutti i contratti a termine non vengono rinnovati e quindi tutti i precari tutte le persone che Concita aveva portato da fuori con dei contratti a tempo determinato alla scadenza del contratto vanno via tra cui me ma in realtà tra cui tutti i giovani i nuovi tutti quelli che la direttrice si era portata dietro inizia una fase complicata per l'unità perché poi ci sono meno soldi per fare le cose e quindi a un certo punto perdi la foto editor quando perdi la foto editor sul giornale si vede le foto sono brutte la prima pagina è brutta mentre prima era un giornale graficamente bello e il giornale quindi comincia anche un po' a perdere colpi a peggiorare io finisco in mezzo a una strada diciamo senza farla troppo tragica ma lì succede un'altra cosa fortunata e divertente nella mia bulimia di notizie all'epoca campavo proprio di quello leggevo dalla mattina alla sera mi rendevo conto di non avere i soldi per comprare tutti i giornali che avrei voluto leggere infatti ti avrei voluto chiedere prima se leggevi online gratis o se andavi a comprare leggevo online gratis e ogni tanto compravo il cartaceo di qualcosa ma perché non avevo abbastanza soldi per comprarlo ogni giorno se non l'avrei fatto e quindi dico sul mio blog che avevo ancora un seguito magari non erano più 80 ma erano 200 ma se facessimo degli abbonamenti collettivi ai giornali che ci piacciono questo è il mio link di paypal fatevi una donazione di un euro di due euro e io con quei soldi compro l'abbonamento a internazionale all'economist al foglio e ve lo riracconto no no ve lo mando no proprio una roba di pirateria pura cioè a pensarci adesso di pirateria pura e lo dico pubblicamente che imbecille no facciamo una mailing list io ogni giorno metto lì il pdf e lo condividiamo ovviamente a un certo punto mi arriva una lettera dal foglio dall'editore del foglio firmata da tipo 28 avvocati che mi dicono smettila subito di fare questa cosa e io infatti cancello il post abbastanza nel panico e dico scusate avete ragione un cretino il fatto sa che da internazionale si accorgono di questa cosa e invece di farmi scrivere da 28 avvocati dicono vieni in redazione conosciamoci cioè se ti piace così tanto il nostro giornale al punto da mettere in piedi questa roba per averlo fai questo mestiere forse sei interessante per noi e mi propongono un altro contratto e progetto per altri sei mesi alla stessa cifra sempre a Roma a fare quello che legge i pezzi per il sito manco per il giornale quindi sai come è fatto internazionale una rivista che ripubblica articoli stranieri è uno del di del mondo cioè ripubblicano sono i migliori articoli usciti sulla stampa straniera secondo loro tradotti in italiano e pubblicati quindi è interessante perché dimostra il mondo ma dimostra anche il mondo raccontato da paesi di cui noi non sentiamo parlare mai cioè il Sudafrica raccontato dai sudafricani per esempio giornale bellissimo io ero molto felice di andare a lavorare lì sempre in condizioni economiche non facili però vado a firmare questo contratto anche perché anzi mi sembra un colpo di fortuna pazzesco finisce il contratto all'unità mi chiamano questi di internazionale vado lì a internazionale mi trovo bene ma non benissimo nel senso che il lavoro era molto bello le persone erano molto carine gentili però era un giornale tra l'altro oggi somiglia molto a come siamo oggi noi al post per cui la cosa ogni tanto mi preoccupa anche che era stato fondato da un gruppo di amici vent'anni prima bravissimi talentuosissimi ce l'avevano fatta quel gruppo di amici era diventato una redazione molto grande si frequentavano si somigliavano si erano sposati a vicenda dentro la redazione c'erano non so quante coppie per un ventenne che arriva da fuori era una comunità molto unita in cui è difficile entrare almeno per me è stato così avrò anche sbagliato io delle cose per cui ricordo questa redazione è popolata da persone molto intelligenti molto brillanti molto carine che erano amabili con tutte e io ero un po' lo spettatore però di questo reality show non ero molto coinvolto a un certo punto mi richiama concito dall'unità e mi dice c'è una collega del sito che è andata in maternità io non posso assumere nessuno perché finché c'è lo stato di crisi il giornale non può fare nuovi contratti ma posso sostituire chi va in maternità viene a sostituirla per cinque mesi io dico di sì a parte perché ero già soltanto felice che concita ti ricordasse di me che la cosa avesse funzionato all'epoca e poi a quel punto tu entri col contratto che ha la persona che sostituisci quindi mi fanno un contratto giornalistico vero per cinque mesi ma io comincio a fare il praticantato quello che poi ti fa diventare professionista torno all'unità allora lavoro lì per cinque mesi stavolta faccio il giornalista non il moderatore del sito quindi scrivi pezzi scrivo pezzi e faccio il sito del giornale perché la collega lì concita fu coraggiosissima la collega che andava in maternità era la vice capa del sito e io sostituendo lei anche sul piano contrattuale diciamo teoricamente la sostituivo anche nelle mansioni e quindi lei è preso per fare il vice capo del sito uno che non aveva nessuna esperienza e che sei mesi prima era lì come l'ultimo degli squatteri diciamo però avendo richiamato te per come dire andare a sostituire quella casella temporanea perché l'hai stupita ai tempi? cioè ti ricordi di aver fatto un qualcosa che fece la differenza allora non lo so credo che in parte c'erano poche persone di cui concita all'interno della redazione non si fidava perché si fidava di tante persone ma che ritenesse sulla sua lunghezza d'onda perché quel mondo lì era un mondo che a lei era anche un po' stile il mondo dell'unità era una redazione ripeto molto anziana che aveva sofferto tantissimo un sacco di crisi precedenti era una redazione anche un po' disillusa ma ripeto non per loro responsabilità il giornale era stato in mille crisi diverse concita è arrivata e ha detto questo giornale lo ribaltiamo quindi ti vedeva come una competenza nuova generazione sì è un alleato in un posto in cui lei aveva pochi alleati le persone portate da lei e di cui lei si fidava erano le poche persone su cui lei poteva contare affidare qualcosa che non potesse essere sabotato da nessuno a un certo punto quindi quando mi fanno scrivere mi affidano anche delle cose anche un po' più importanti piano piano lei dimostra di fidarsi molto di me o meglio fa una scommessa che io evidentemente poi riesco diciamo a ripagare lavorando bene e quindi torno a fare formalmente poi nei fatti c'era un capo che si chiama Cesare Buquicchio che anche lui mi ha insegnato parecchio in quei sei mesi ma io facevo il suo braccio destro e alcuni dei colleghi che ovviamente erano lì da prima capisco anche giustamente non è che l'hanno presa benissimo questa cosa che arriva il ragazzino che l'altro ieri moderava i commenti e adesso mi dice che cosa devo fare io cosa devo scrivere e ricordo che fu la prima esperienza lavorativa sul piano personale più impegnativa è difficile litigare con le persone sono molto più grandi più esperte di te e io non voglio mai litigare con qualcuno in generale però in quei casi dovevi anche difenderti se qualcuno turlava dietro e scaduti cinque mesi che fai? te ne vai? scaduti cinque mesi il giornale non può tenermi Concita ci prova in tutti i modi anche riuscendo a ottenere dall'editore l'impegno di assumermi nella società editrice come funzionare dell'amministrazione ma con la promessa però sta in redazione lavori una cosa illegalissima infatti era soltanto una proposta buttata lì diciamo ma io non l'ho fatto ed era una cosa che sarebbe stata probabilmente impraticabile e quindi mi sembrava che il giornale non andasse da nessuna parte che la cosa fosse molto precaria e che la direttrice stessa fosse molto precaria il giornale stava andando male era cambiato anche il segretario del PD il PD voleva cambiare linea sarebbe cambiato anche il direttore dell'unità a un certo punto nel frattempo era accaduta un'altra cosa tramite l'unità soprattutto e tramite anche qualche esperienza politica quella con Scalfarotto io sto benedetto Luca Sofri l'avevo conosciuto di persona perché Luca Sofri e Ivan Scalfarotto sono amici e quando avevo fatto il volontario per Scalfarotto e dovevo abitare da qualche parte a Milano Luca Sofri aveva messo a disposizione del comitato di Ivan un suo studio che per un mese fu casa mia e quindi io ero anche ospite di casa di Luca Sofri immagino anche lì il sogno della mia vita e quindi poi lui mi raccontò a un certo punto essendoci continuati a sentire lui collaborava con l'unità io a volte facevo da ponte tra lui e Concita mi raccontò che voleva fare un giornale online che stava raccogliendo i soldi che stava mettendo insieme i soci siamo nel 2008 no nel 2008 sono entrato all'unità a novembre elezioni del 2008 quindi 2-9 2-9 sono ancora all'unità sì i cinque mesi finali cominciano alla fine del 2009 e si concludono nel 2010 ti piacerebbe venire a parlare con me di sto giornale io farò una redazione cerco dei ragazzi giovani in gamba che non abbiano lavorato troppo nei giornali tradizionali io dico subito sì un po' perché nel frattempo sei sempre nel tuo monolocale polifunzionale di cui parlavi prima sono sempre lì anche perché a un certo punto questa cosa che Luca mi dice sto facendo un giornale eccetera comincia ne parliamo per un po' io so che esiste la possibilità che a un certo punto vada via e vedo che all'unità non c'è una strada davanti a me per cui mi dico inutile cambiare casa se poi fra sei mesi mi devo trasferire in un'altra città quindi rimango lì anche un po' più a lungo di quello che avrei dovuto però sto ancora lì con la mia fidanzata dell'epoca e però quando all'unità la cosa finisce e Luca mi dice guarda il post si fa io noleggio un furgone e ci metto dentro tutto e vengo a Milano lui ti propone uno stipendio o ti dice proviamoci e vediamo come va no no lui mi propone un lavoro un lavoro vero con uno stipendio investiva lui aveva dei finanziatori no no c'erano dei soci lui ci aveva anche messo dei soldi ma c'era una società il pezzo più grosso era la società che si chiama Banzai che poi fu comprata qualche anno fa da Mondadori ma facevano studenti.it quindi Giallo Zafferano Giallo Zafferano esatto e loro erano anche il nostro partner tecnologico ovviamente e poi c'erano degli altri soci minori persone ricche benestanti che investivano che Luca aveva conosciuto nel corso degli anni che avevano dato quello che per loro immagino fossero pochi soldi ma per noi erano abbastanza da mettere insieme credo un milione un milione e due un milione e mezzo massimo il capitale con cui è partito il post quindi c'era un editore vero noi avevamo dei lavori veri degli stipendi veri tutto online tutto online solo online quindi tu sei arrivato dal momento in cui è stato fondata la testata io sono arrivato qui a febbraio il post è uscito ad aprile quindi quel febbraio ho cominciato a lavorare ogni giorno alla costruzione del sito poi Luca ci lavorava già da prima però Luca è direttore editoriale Luca è direttore responsabile direttore responsabile e tu? io redattore come gli altri cinque redattore come gli altri cinque però succedono due cose a quel punto la prima è che io mi rivelo poi essere il primo che Luca ha chiamato è l'unico con una qualche esperienza giornalistica pregressa per quanto piccolissima parliamo di quelle due robine unità internazionale ma gli altri della redazione del post partono proprio da zero quindi sai non vuoi da zero vuol dire ex blogger persone cioè un minimo di infarinatura l'avranno avuta ma sai pochissimo Luca ebbe anche lì un'idea intelligente di cercare delle persone intelligenti brillanti che gli piacessero prendeva la gente senza aver letto quello che scrivevano soltanto dopo i colloqui c'era un ragazzo che faceva lo sceneggiatore aveva fatto lo sceneggiatore di camera caffè c'era una ragazza che era un'imprenditrice oggi è una famosa imprenditrice ha cambiato mestiere ma era evidentemente una persona molto brillante un'altra ragazza che aveva un sito sulle serie tv un'altra ragazza che aveva semplicemente fatto un colloquio in cui se l'era cavata benissimo era all'università e Luca l'ha presa quindi non scrivevano nessuno lo faceva per misteri Emanuele Menetti lo faceva online sul suo blog ma in modo amatoriale ti faccio solo una domanda modello di business del post quindi lui ti racconta che si costruirà questa nuova creatura editoriale abbastanza innovativa tutta online come si reggeva il modello di business cioè dove stava l'incoming economico era pagamento c'era un abbonamento era tutto gratis era advertising il core di fatturato del business solo pubblicità era tutto gratis le pagine contenevano pubblicità e noi guadagnavamo da quella pubblicità sapendo che saremmo stati in perdita per i primi anni perché non c'era un mercato così grosso diciamo pubblicitario online da ripagare i nostri costi quindi era previsto nel milione e due di finanziamento iniziale sì noi pensavamo di dover andare a break even cioè di incassare quanto spendevamo entro tre anni sapevamo che saremmo partiti andando sotto e perdendo soldi e tu non avevi paura del futuro nel senso ti dava abbastanza sicurezza a questo progetto ma sai io venivo da contratti di cinque mesi quindi finirà tra sei mesi amen cioè nel senso non mi preoccupavo sapevo che poteva finire presto però sapevo che la mia vita sarebbe stata così per un po' avresti dovuto soffrire un po' qualche rischio te lo dovevi prendere però quello ti sembrava molto sexy mi sembrava molto sexy perché Luca voleva fare un giornale che non c'era all'epoca non c'erano giornali online in Italia che non fossero le versioni online dei giornali cartacei non c'era l'Affington Post non c'era l'inchiesta non c'era non c'era nessun giornale non la fanpage c'eravamo noi e basta i modelli erano esplicitamente anglosassoni volevamo fare una cosa che in America esisteva e qui no qual era la referenza americana? una cosa a metà traslate che era un sito un magazine un super blog e un vero giornale il Washington Post il Post ha questo logo con i caratteri bastoni ma la S è una S da vecchia testata di giornale e quella è la nostra identità in modo da ibridare quei due modi esatto esatto quello è il tentativo eravamo sicuri che però la pubblicità sarebbe arrivata era anche quello un pensiero molto ingenuo ma all'epoca si pensava tutta la pubblicità che oggi viene investita nella tv e nei giornali dove potrà mai finire dato che questi prodotti sono in crisi se non da noi che siamo internet siamo il futuro e le persone non potranno che correre da noi l'avrebbero fatto avendo voi dei numeri e per avere quei numeri qual era la vostra cifra stilistica qual era il vostro unicum per cui le persone dovevano offrire dell'informazione da voi due cose fondamentali e nessuna delle due innovativa noi non potevamo competere sulla forza muscolare ovviamente perché eravamo in cinque non è che batti repubblica sul tempo noi potevamo essere e dovevamo essere più rigorosi degli altri più attenti degli altri quindi fare una in che senso? fai una verifica in più delle cose che scrivi non rischiare di scrivere una cosa falsa imprecisa e poi dover correggere il pezzo non fare un pezzo su una cosa che ha il dubbio se sia vero o no solo perché funziona e fa click cerca di capire bene le cose quante volte all'epoca soprattutto si leggevano notizie sugli esteri imprecise perché mal tradotte dall'inglese la qualità del giornalismo online era una qualità molto bassa oggi è molto migliorata e se oggi ci sembra poco dieci anni fa quindici anni fa era veramente secondo me un giornalismo di serie B purtroppo mentre oggi è molto più attendibile oggi sì è molto imperfetto però oggi ci sono anche tantissime cose di alta qualità sulla stampa italiana secondo me anche online all'epoca erano le notizie che metti gratis sul web mentre il giornale vero è quello di carta noi saremmo stati quelli più attenti più scrupolosi degli altri e noi saremmo stati quelli scritti meglio nel senso non della qualità tipo Hemingway ma scritti in modo più chiaro più accessibile senza linguaggi da addetti ai lavori senza gergo senza dire la bagarre la bufera poteva essere una strage erano tutte quelle frasi poter arrivare a tutti parlare semplice parlare semplice Luca ci diceva sempre immagina che questa cosa la stai raccontando a tua nonna la stai spiegando a tuo figlio come gliela dici la legge finanziaria non puoi dire la legge che fissa il budget cioè spiegami che cos'è è la legge che prevede quanti soldi ogni anno lo Stato può spendere può incassare e come cioè traduci all'inizio quanti articoli al giorno? una quindicina eravamo molto rapidi non facevamo reporting di nuovo eravamo troppo pochi facciamo soprattutto curatela e aggregazione di contenuti trovati altrove selezione moltissimo l'idea era e questa è una cosa che vale ancora oggi siamo nella prima epoca della storia dell'umanità che ha il problema di avere troppe informazioni non era mai accaduto prima ma fino a 20 anni fa vuoi sapere cosa è accaduto ieri in Colombia come fai? cioè non è semplice improvvisamente vuoi sapere cosa è accaduto ieri in Colombia stai lì dove sei apri TikTok digiti Colombia e non finisci mai di vedere cose sulla Colombia e fatti e notizie contenuti cultura canzoni eccetera e quindi l'idea che fosse diventato improvvisamente preziosissimo il ruolo di chi seleziona di chi legge il più possibile e fa per te lettore un lavoro di filtro sperando che tu possa apprezzare la selezione se non andrei da qualcun altro però volevamo molto fare anche quel lavoro lì essendo molto più giovani della media delle altre redazioni avendo più antenne avendo una sensibilità sulla cultura contemporanea molto più affilata rispetto alle redazioni più anziane questa era la nostra cifra stilistica viene percepito? fate fatica all'inizio o cominciate subito ad avere un pubblico? cominciamo subito ad avere un pubblico perché Luca Sofri aveva un suo pubblico il suo blog e quindi lo converte lo converte faceva una cosa a Radio 2 insomma Luca Sofri aveva fatto la tv a 8 e mezzo sulla 7 aveva un suo pubblico che in parte trasferisce sul post e si parte da lì il pubblico poi ci vuole bene molto da subito ma è piccolo cresce va crescendo ma partendo da zero e quindi social non facevate ancora niente? quasi nulla non erano quello che sono oggi social noi avevamo un social media manager all'epoca chiunque pubblicava un pezzo poi lo metteva anche sulla pagina facebook del post quando era stato pubblicato senza nessuna strategia cioè mirroring senza puro potevamo mettere un feed automatico sarebbe stata la stessa cosa ci siamo accorti dopo un paio d'anni che lì c'era un bacino di opportunità che bisognava però occuparsene ma la cosa che abbiamo capito anche in quegli anni è che la pubblicità non è arrivata stavo per chiedertelo non sarebbe arrivata si è spostata online molto poi i giornali sono rimasti la tv è rimasta però molto online sulle testate cartacee che avevano in parallelo anche il digitale lì certamente i più grossi ma soprattutto facebook e google cioè oggi tu vuoi fare pubblicità a qualsiasi cosa su internet facebook e google ti permettono di rivolgerti a un pubblico profilato in modo preciso e noi no nel senso il post ti rispone ai lettori del post ma non è che puoi selezionare l'età la città la passione e quindi si sono presi la fetta più grande dagli investimenti pubblicitari e noi siamo rimasti in difficoltà dopo quanto tempo fate questo ragionamento? dopo i primi direi due tre anni cioè capiamo a un certo punto che non saremmo andati a break even in tre anni lui ti rendeva partecipe pur essendo un redattore semplice come gli altri di queste condivisioni come dire manageriali no? imprenditoriali sì ma perché prima ho detto per due motivi mi sono reso conto che non ho detto il secondo il secondo era che tra me e Luca nasce una grande sintonia o meglio io percepisco questa cosa ma credo la direbbe anche lui oggi io e lui siamo due che si finiscono le frasi a vicenda degli sparring sì ci capiamo moltissimo siamo in sintonia su tantissime cose anche perché ho poi imparato molte cose da lui quindi cominciamo a condividere tante decisioni lui poi ha bisogno di parlare con qualcuno delle scelte del giornale essendo io poi il più esperto divento molto prima che venissi nominato vice direttore di fatto il vice di Luca quanti anni avete di differenza? vent'anni precisi io ne ho 38 lui ne fa 58 a dicembre quindi quando siete a ridosso del periodo del break even almeno quello preventivato sin dalla creazione della testata vi rendete conto che il modello di business va completamente cambiato? no ci rendiamo conto che non ce la facciamo ma speriamo di farcela come reagite? dobbiamo fare ancora più click cioè se oggi non guadagniamo abbastanza perché non siamo abbastanza letti se noi siamo più letti guadagniamo più soldi e come lo si fa? facendo più articoli ancora? diventando un po' più bravi intanto a fare le cose che fai facendo di più le cose che funzionano di più senza diciamo tradire chi sei però per esempio abbiamo fatto un grosso investimento sulle gallerie fotografiche di alta qualità non le foto dei VIP in costume compravamo servizi fotografici dalle grandi agenzie mettendo le grandi sullo schermo all'epoca era una cosa abbastanza nuova per il web giornalistico in Italia e quelle facevano tantissimi click che ci portavano tanti soldi e quindi decidi di puntare sulle cose che puoi monetizzare meglio siamo diventati molto bravi con Google il post è stato per tanti anni il sito che trovavi qualsiasi cosa cercavi su Google ben indicizzato intendi? moltissimo sì ma perché ci lavoravamo molto sui titoli sui tag gli altri non lo facevano per niente alla ranzulla maniera esatto oggi lo fanno anche gli altri anche meglio di noi ma noi l'abbiamo capita un po' prima quella roba lì e ci siamo avvantaggiati di quello e poi investendo i social hanno detto va bene aumentiamo il capitale allora investiamo ancora di più non andremo a break even adesso ci andremo più avanti ma l'idea merita continuiamo per cui noi poi a un certo punto andiamo a break even dopo quattro anni e mezzo credo dal 2014 e il 2015 di pochissimo andiamo in parità i soci dicono investiamo ancora allarghiamo ancora questo giornale e lì però arriva la crisi economica diciamo l'Italia poi non è un paese in che anno siamo? lì siamo intorno secondo me al 2015 16 17 noi ci rendiamo conto che riusciamo a vivacchiare ma perdiamo e che non stiamo crescendo più il post ha anche 2-3 anni in cui va avanti va avanti bene ma non assume nessuno non cresce tu 2015-2016 sei ancora un redattore sei sicuramente il delfino comunque il braccio destro di Luca quindi impari anche in parallelo tantissime altre cose ma il tuo stipendio è normale riesci a vivere a Milano non fai null'altro che fare il redattore non hai aperto ancora i tuoi social non hai ancora fatto null'altro giusto? no 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 allora io nel 2015 divento vice direttore del post formalmente e poi ho comincio anche a collaborare con qualche altro giornale ogni tanto scrivo una cosa per un altro sito per un giornale cartaceo ho scritto cose piccole una roba per studio una cosa per la lettura del Corriere della Sera non tanto piccolo ma io ho scritto una cosa piccolissima non c'era una gelosia da parte di Luca sul fatto che tu facessi anche cose per altri per terzi? no o meglio se c'è stata non me l'ha mai manifestata non me ne sono mai accorto e tu lo facevi per soldi? io lo facevo un po' per soldi ma anche per ambizione sai sul post noi siamo sempre stati molto al servizio degli lettori noi non firmiamo i pezzi per dire e io che facevo il vice direttore non scrivevo io facevo il giornalista che fa il giornale che fa la macchina ma che non scrive do i pezzi da fare li rileggo controllo faccio il titolo metto in pagina sposto c'è una breaking news chi è libero diamo la tizio diamo la caio un bel lavoro però non scrivevo mai ti volevi mettere in gioco scendendo in campo e scrivendo qualcosa di mio con la mia firma quindi è un po' più autoriale poi un amico di Luca che è Cristian Rocca che avevo conosciuto e che stimavo diventa direttore di il mensile del sole mi chiede di collaborare perché faccio un articolo per ogni numero degli articoli anche un po' più divertenti con un po' più di me dentro l'idea è sempre non firmare i pezzi perché tu possa scrivere soltanto avendo in testa il lettore che ti legge e non possa essere tentato nemmeno in modo inconscio da mettere dentro qualcosa perché le persone pensano quanto sei bravo quanto scrivi bene e quindi volevo fare queste cose parte di me pensa anche che Luca ha avuto un percorso di carriera per certi versi simili nel senso che Luca ha sempre collaborato con molte restate diverse ha sempre fatto molte cose diverse e quindi credo anche che in questo percorso diciamo da Delfino come tu dicevi prima che lui vedesse qualcosa che ci fosse familiare nel mio desiderio di voler scrivere anche per altri poi io davo al posto la grandissima parte delle mie ore del mio tempo per cui se Luca avesse visto che io lavoravo male forse mi avrebbe anche detto qualcosa ma io facevo tutto fuori dall'orario di lavoro ho i miei social e quindi comincio ad avere un piccolo pubblico ma molto piccolo cioè io quando guadagnavo un follower su Twitter dicevo ah che bello un follower nuovo cioè era una cosa ancora piccolina il tuo primo social da buon giornalista era Twitter sì 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 quello su cui passavo più tempo ma ti direi ancora adesso solo che scrivo quasi nulla ma leggo e basta ma Twitter è certamente il social fatto per me c'è testo notizie informazioni pochi fronzoli e come si evolve il tutto quindi diventi vice direttore il modello di business del post rimane uguale fruizione gratuita pubblicità pubblicità e allora divento vice direttore quello è anche un momento un po' complicato della mia vita personale perché finisce la relazione con quella ragazza di cui ti parlavo con cui ero stato insieme sette anni del monolocale pulifunzionale esatto con cui ero andati insieme a Roma ho vissuto a Milano scusa a Roma e poi si trasferisce a Milano quanto è? quando io devo andare al posto a Milano anche lei saltava da uno stagio all'altro e anche lei voleva fare la giornalista anche per lei aveva senso l'idea di spostarsi a Milano e quindi andiamo a Milano insieme quindi ci costruiamo una vita nuova arrivando da zero in una città nuova ma essendo insieme che è una cosa che unisce molto il rapporto che però poi a un certo punto esaurisce tutta la sua spinta però insomma una relazione da sette anni che finisce sette anni di convivenza peraltro appunto è una cosa complicata da intensa da affrontare da superare mentre io divento vice direttore al posto qualche responsabilità in più comincio ad avere qualche piccola visibilità in più perché sempre nel 2015 mi sono fatto questa newsletter sugli Stati Uniti da costa a costa che all'inizio è una cosa molto piccola gli iscritti sono qualche centinaio però io ogni sabato mando una newsletter sulle notizie della politica americana non eri mai stato negli Stati Uniti nel 2015 o già no c'ero stato un po' di volte una volta in vacanza con Arianna la mia ex fidanzata e un'altra volta per lavoro perché coinvolto in un programma per giovani giornalisti dal Dipartimento di Stato americano io all'epoca comunque sul posto quando scrivevo di Stati Uniti intanto scrivevo cioè piuttosto mi mettevo in pausa ma cercavo almeno sull'America di scrivere al post e i pezzi li firmavo anche al post i pezzi non sono firmati salvo che l'autore e l'autrice non vogliono farlo è una cosa che facciamo raramente nei pezzi a cui teniamo particolarmente io i pezzi miei sull'America li firmavo sempre volevo cominciare anche a far vedere che scrivevo di cose americane con competenza o sperando diciamo con competenza cosa ti ha tratto di quel pezzo di terra nell'universo perché poi hai scritto un libro adesso che si chiama California quindi per te quel mondo lì rappresenta gran parte del tuo tempo dei tuoi studi della tua passione che cos'è che ti ha tirato dentro? allora diciamo in parte se sei come me appassionato hai le ragioni per cui succedono le cose mi sembra che le ragioni per cui succedono un sacco di cose nel mondo siano lì o vengano da lì la cultura le mode la cosa che stiamo facendo io e te adesso è una cosa che hanno inventato lì è la cosa che faccio e ogni mattina l'hanno inventata lì il boom delle newsletter il boom dei podcast è stata inventata lì fatta in questo modo così personale così con questo linguaggio anche così sofisticato i social media vengono da lì il cinema Hollywood ma la nostra economia il capitalismo il consumismo vengono da lì e quindi alla fine tu prendi questi fili e tiri su e arrivi spesso negli Stati Uniti poi non sempre e poi la cosa che non ti ho raccontato sull'unità che è un altro aneddoto diciamo formativo è che io arrivo a novembre per quanto faccio il moderatore dei commenti servono un po' persone giovani nuove che facciano un po' di cose i lavori che qui quegli altri non vogliono più fare e mi mandano la notte delle elezioni di Obama quella del 2008 a passare la notte in un locale di Roma il roadhouse che c'è in stazione Termini con gli americani a Roma gli americani si riunivano in questo locale a seguire la notte lo scrutinio e mi dicono vai con loro stai la notte con loro e poi fai un pezzo su come hanno vissuto la nottata elettorale io quindi mi ritrovo a fare il giornalista per la prima volta nella vita circondato da questi americani felici commossi perché è venuto un evento storico per la prima volta una persona afroamericana è presidente e io sono lì per raccontarlo era per me il paradiso la cosa ho detto ce l'ho fatta quel giorno lì e quello mi ha un po' anche attirato agli Stati Uniti perché quella storia quelle storie averla seguita averla raccontata ok quindi la prossima come fai a dire adesso non mi interessa più cosa fa Obama da presidente no mi interessa un sacco lo voglio sapere e quindi sviluppo un interesse che in parte personale in parte professionale attorno a questa storia ritorniamo al 2016 2017 quel periodo ti lasci con la tua fidanzata storica dopo sette anni diventi vice direttore hai più responsabilità scrivi per terzi usi i tuoi social con Twitter cominci ad avere un pochino più più che essere in hype cominci a farti conoscere visto che eri anonimo come giornalista diciamo alla redazione del post perché non firmavi i pezzi quindi cominci ad avere non dico un personal branding subito ma cominci ad avere un tuo pubblico che segue proprio te il tuo modo di parlare il tuo modo di raccontare le cose e poi come si evolve? esattamente così comincio a fare incontri dal vivo mi invitano ma davvero gruppi da 20-30 persone e io gli racconto le cose americane gli Stati Uniti e faccio degli incontri con Lorenzo Preliasco Giovanni Diamanti di Utrend con cui facciamo un giro per l'Italia per me il primo vero esperimento di incontri pubblici in cui io parlo e faccio il giornalista e racconto le mie cose e per fortuna appunto funzionava lavoro tantissimo e diciamo essere single in quel caso aiuta tanto cioè eri già staccanovista prima poi sei andato in all-in cioè full immersion completa nel senso se io torno a casa e non ho qualcuno con cui passare il tempo la mia fidanzata ti butti a scrivere ma sì lavoro all'epoca adesso credo che torno a casa e muovi sul divano ma all'epoca torno a casa e leggo e scrivo cioè non mi ricordo che facevo un sacco di cose non mi ricordo mai di aver avuto la percezione di non ho il tempo di farle perché lavoravo sempre poi hai detto dopo ci arriviamo a morning 4 del mattino e quindi da una parte fruisci da una parte riracconti quante ore dormi a notte? adesso dormo 4 ore in media l'app dice 4 ore a volte 3 a volte 5 ok e sei in forma con 4 ore? sì a volte mi sento molto stanco però le giornate no sono meno delle giornate sì lo faccio da un anno e mezzo questa vita assurda però fin qui tutto bene direi la cosa che però ho dovuto fare in quest'anno e mezzo è correggere e cambiare una serie di cose nelle mie giornate per cui sto cercando progressivamente di lavorare un po' di meno perché io per un anno ho fatto di svegliarmi alle 4 e mezza e per il resto fare la vita che facevo prima lavorare anche la sera se serve andare in giro oggi sto cercando di farlo un po' meno soprattutto nel 2023 il mio progetto è alzare molto il piede dall'acceleratore perché che sennò diventa molto faticoso molto impegnativo siamo indietro di 6 anni quindi 2017 tendenzialmente gruppi di ascolto 20-30 persone con cui profondi il verbo adesso la sintetizzo in quel modo e come si evolve il tutto da lì in poi? allora si evolve col fatto che questo pubblico cresce io mi ritrovo a essere la persona giusta al momento giusto nel posto giusto perché a quelle elezioni lì si candida Donald Trump siamo nel 2016 quando io fondo da costa a costa quelle elezioni quindi diventano delle elezioni incredibili e la gente anche quella che non si interessa di politica estera vuole capire che diavolo sta accadendo in America e quindi col passaparola questa newsletter arriva dovunque guadagna migliaia di iscritti grazie a una raccolta fondi tra gli iscritti io riesco ad andare in America prendo ferie dal posto vado in America fai un Patreon? no non esisteva ancora Patreon pensa faccio un crowdfunding con Paypal e ti promuovi attraverso newsletter e attraverso Twitter esatto attraverso i social il mio blog Twitter io dico abbiamo raggiunto un tot di iscritti perché era una newsletter gratuita io dico devo passare alla funzione a pagamento perché oltre un tot dovevi pagare lo faccio volentieri mi sto divertendo mi piace questa cosa della newsletter capivo che per me professionalmente era molto fica quella cosa lì di avere un pubblico mio degli indirizzi mail miei a cui io mandavo le cose però gli dico siccome costerà più o meno 800-900 euro da qui alla fine delle elezioni questo è il mio Paypal se volete contribuire già lo faccio gratis se vi sembra utile date quello che vi pare non avete diritto a nulla non ci sono ricompense di alcun tipo la mia gratitudine basta e arrivano tipo 7000 euro in una settimana per cui capisco che quanti donatori quante teste 300-400 più o meno donazioni da pochi euro però funziona però tutti insieme avevi un bel gruzzolo sul tavolo per cui io stoppo le donazioni motivo per cui ancora qualche collega mi insulta perché potevano arrivarne delle altre mi ripago oltre che la newsletter vado a seguire le convention dei partiti in America per elettorali parli bene l'inglese adesso sì direi all'epoca non tantissimo lo leggo come se fosse l'italiano e lo ascolto lo capisco come se fosse l'italiano ma non lo parlo nella mia vita quotidiana quindi sono sempre un po' arrugginito poi ho preso le lezioni però capiti tutto quando ascolti capiti capisco tutto quindi per me comunque far lavorare lì era comodo io poi scrivevo in italiano quindi devo soltanto ascoltare fare delle domande al massimo e poi scrivere insomma questa cosa qui funziona io vado in America a lavorare per loro prendo ferie dal posto e vado a seguire le cose della politica americana lì vedo Obama vedo tutti questi politici vedo Obama è il momento in cui si chiude davvero un altro cerchio comincio in campeggio scrivendo di Obama arrivo in America a vedere Obama che fa l'ultimo discorso della sua presidenza alla convention di Philadelphia quindi molto bello mi commuovo anche molto in quel momento lì al post però le cose vanno così così nel senso che la pubblicità non arriva noi facciamo fatica il giornale perde soldi i soci possono anche mettercene ancora però un giornale che esiste da 6-7 anni 8 anni a un certo punto che prospettiva ha il 2018 è un anno in cui noi facciamo il più 100% di visite sull'anno precedente quindi raddoppiata esattamente vuol dire che c'è un articolo o un motivo per cui succede c'è sempre un turning point in realtà il posto comincia a crescere parecchio un primo turning point in modo organico sì un primo vero turning point uno scalino è il caso Costa Concordia nel 2013 che noi seguiamo molto bene che ci mette su un po' di mappe ma ce ne sono stati anche altri nella politica italiana penso alle dimissioni di Berlusconi 2011 penso al terremoto in Giappone terremoto in Emilia Romagna alcuni grossi fatti che ci hanno fatto sempre fare un gradino in più ma ti dicevo di quell'anno perché noi non solo facciamo il doppio dei click rispetto all'anno prima ma incassiamo meno rispetto all'anno prima e lì capiamo che il modello di business è rotto cioè se il giornale va male perché non siamo letti il problema è nostro ma se il giornale fa il doppio dei lettori e guadagna di meno è proprio che non puoi più finanziarti in quel modo lì si va ridisegnato il modello di business completamente e l'unica cosa che ci sembra fattibile e sensata è coinvolgere chi ci legge e quindi dire alle persone che leggono il post che amano il post partecipa mettendoci dei soldi non è più tutto gratis quello che avevi già sperimentato su te stesso con America io queste cose che mi facevo nel mio tempo libero per me erano anche come raccontavi tu prima una valvola di sfogo e un modo per fare delle cose col mio nome sopra un modo per sperimentare delle cose senza avere la responsabilità di mettere il giornale davanti o di dover chiedere il permesso a qualcuno però quell'esperienza che poi funziona e che è un successo nel suo piccolo è anche di insegnamento al post quando il post decide di fare quella roba lì di mettere come primo prodotto in assoluto soltanto per abbonati la sua newsletter e quindi di nuovo la newsletter come mezzo per costruire una community perché più intima più personale rispetto al sito e quindi ci mettiamo un po' ma costruiamo un sistema di abbonamenti per cui oggi è possibile abbonarsi al post adesso un abbonamento unico che racchiude tante altre cose ma all'inizio com'era il modello? prima la newsletter l'unico prodotto in abbonamento? era solo quello tant'è che in realtà noi dicevamo alle persone non abbonati per la newsletter abbonati per sostenere il post e lo diciamo ancora perché quello è davvero lo spirito lo spirito è quello di quando esci la domenica e torni a casa con la zalea per la ricerca sul cancro non è che tu sei uscito pensando mi serve una pianta compro una pianta hai voluto dare dei soldi a una cosa molto importante per te e sei contento che ti porti a casa anche una pianta che male non fa l'idea era abbonati fate le dovute proporzioni tra i paragoni ovviamente abbonati per sostenere un giornale che cerca di fare buon giornalismo se lo pensi quando pensate a questa cosa quanti siete in redazione? l'organico è composto da quante persone? una ventina direi una ventina ah ok dai 5 iniziali si è cresciuti grazie al finanziamento dei soci i soci hanno sempre inseguito la pubblicità la pubblicità cresceva i soci investivano ancora noi eravamo in perdita perché aumentavano anche i nostri costi però perché l'idea era fare un giornale grande non volevamo fare un giornale che vivacchiasse su dei numeri piccolini ma abbastanza per pagare i nostri 5 stipendi noi siamo sempre stati molto ambiziosi oggi quanti siete? oggi siamo più di 50 facciamo un passo indietro quindi sostieni il buon giornalismo la newsletter come dire è una coccola ti porti a casa una newsletter che ti arriva ogni sera guardi il sito senza pubblicità utilizzarti e anzi quindi ti rompiamo meno le scatole e poi ci darai una mano e ti daremo delle altre cose più avanti quando diventeremo più grandi che è una promessa anche se vuoi un po' buffa il post crescerà e lo farà anche grazie a te e essendoci un sistema di abbonamento adesso la pubblicità è debellata o c'è anche la pubblicità? la pubblicità c'è ancora per chi non è abbonato chi non è abbonato vede il sito con la pubblicità e la pubblicità continua oggi a pagare una parte importante dei nostri stipendi però mentre prima era il 100% o quasi delle nostre entrate dalla raccolta adesso non più oggi la pubblicità pesa per meno del 40% forse il 30% per il resto noi dipendiamo dai abbonamenti cambia tutto quando cambia questo rapporto di forza qual è l'evoluzione quindi newsletter la redazione buon giornalismo un buon modo di raccontare quello che accade ma poi dopo arriva all'era del podcast raccontami l'evoluzione lato il post e poi dopo entriamo invece sulla tua sfera personale siamo nel 2017 sì siamo nel 2017 credo 2018 mi sai quando facciamo il vero piano insomma la campagna abbonamenti parte bene c'è uno zoccolo duro di nostri lettori che non vedevano l'ora di darci dei soldi e ce li danno e quindi noi partiamo con una bella spinta che innanzitutto ci rasserena la più grande donazione ai tempi delle donazioni di un singolo ti ricordi l'importo? sì credo che una persona mi donano 700 due persone mi donano 700 euro che voglio dire caspita però è una cosa che leggeresti gratis comunque peraltro quindi bellissimo messaggio molto bello cioè un grande abbraccio caloroso sì 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 bellissimo quell'esperienza appunto è parte anche del bagaglio del post la prima cosa che succede è che ci rasseneriamo perché fino all'anno prima noi pensavamo questo giornale resisterà ce la faremo però sarà dura sarà dura arranchiamo chissà che non dovremmo tagliare qualcosa a un certo punto era possibile da un certo punto doverci trovare a licenziare qualcuno a dover tagliare i costi invece la buona partenza ci rassicura ci rasserena può funzionare c'è da lavorarci non basta ma può funzionare la crescita a quel punto diventa una crescita molto più lenta ma continua ad avvenire è però una crescita che incontra alcuni gradini improvvisamente succede un paio di volte anzi tre volte succede che il numero delle persone abbonate al post fa un salto nel giro di pochissimi giorni il primo di questi salti avviene nel 2020 quindi noi comunque dal 2018-19 andiamo avanti cresciamo piano piano ma il vero botto lo facciamo il primo nel 2020 con il primo lockdown e non tanto e non solo perché la gente era chiusa in casa che è una cosa che ha cambiato il mercato degli audiolibri dei videogames ma me lo voglio di sapere sì ma ti racconto questa cosa che è abbastanza impressionante la notte in cui viene dichiarato il lockdown in Lombardia e in 10-11 province italiane prima del lockdown nazionale circola dalla mattina dalla domenica mattina una bozza di questa ordinanza e su tutti i siti di news c'era scritto saranno chiuse la Lombardia e 11 province era una cosa enorme cioè soltanto in Cina era accaduta quella roba lì noi a volte ci dimentichiamo il livello di shock pazzesco che fu quella roba nessun altro paese al mondo l'aveva fatto a parte la Cina che però dicevamo tutti è la Cina è una dittatura e l'ordinanza non diceva che le persone residenti potevano tornare a casa dovunque tu sia a mezzanotte devi restare lì ci immaginavamo degli scenari da militari per le strade eppure una bozza per tutto il giorno circola le persone sono preoccupate qualcuno nel panico c'è chi spende un sacco di soldi per tornare dall'estero c'è chi scappa chi viaggia noi decidiamo di non fare nulla di non scrivere di questa bozza riceviamo un sacco di messaggi perché i nostri lettori ci dicono ma perché voi non ne scrivete vera non è vera diteci qualcosa la bozza era vera ovviamente ma era una bozza la conferenza stampa del governo che deve arrivare entro una certa ora non arriva Conte a un certo punto parla credo alle tre di notte una cosa molto drammatica noi per placare diciamo le domande al nostro pubblico anche per dare delle risposte che meritavano scriviamo un tweet e ancora online noi diciamo sappiamo che il governo sta prendendo in considerazione delle misure molto pesanti per contrastare i contagi data diciamo la straordinarietà e la delicatezza delle misure di cui si parla preferiamo scrivere di tutto questo quando ci sarà qualcosa di certo e di ufficiale e non prima punto e le persone non c'era manco un link nel tweet le persone cominciarono ad abbonarsi al post quella notte in un numero che noi non avevamo mai visto se non il primo giorno di lancio diciamo della campagna abbonamenti lo ricordi quel numero? parliamo di qualche migliaio in poche ore in 24 ore una roba pazzesca soltanto come gesto quasi di protesta nei confronti di un sistema mediatico che a fronte di una posta in palio così alta e di notizie che hanno conseguenze così gravi sulle persone non riesce a non avere l'ansia da clic e dire ma se intanto diciamolo poi si vede quando poi esce il decreto il decreto ovviamente diverso dalla bozza il decreto diceva che tu potevi tornare nella tua località di residenza da dovunque fossi non c'era bisogno di quella catastrofe diciamo di quella domenica lì quello ci può fare un grande salto poi c'è la pandemia le persone hanno bisogno di avere delle notizie affidabili verificate e noi eravamo già da prima quelli noti per avere anche come brand questo tipo di caratteristica detto che poi cercavamo di farlo sul lavoro e quindi la pandemia la prima fase della pandemia ci dà una grandissima spinta nel frattempo io avevo scritto il mio primo libro nel 2019 che è uscito il 20 gennaio del 2020 con l'idea che avrei dovuto girare l'Italia per presentarlo e invece addirittura chiudono le librerie e pensa ho detto vabbè la mia carriera da scrittore è iniziata ed è subito finita perché chi solo comprerà mai un libro con le librerie chiuse e tutti presi da altro evidentemente ma questa è un'altra storia poi alla fine per fortuna il libro va bene ma il 2020 è un anno io lo ricordo di super lavoro che è stato anche utile perché mi sono molto distratto dalla catastrofe e di grande slancio che hanno avuto i miei contenuti e i contenuti del post perché appunto eravamo tutti attaccati ai dispositivi quindi lo switch su di te di riflesso quello che hai raccontato avviene molto nel 2020 lo switch su di me avviene molto nel 2020 sì lì hai Instagram e sei attivo dappertutto lì ho Instagram e sono cresciuto su Instagram e cresco molto su Instagram faccio delle dirette pubblico contenuti il libro comunque per quanto abbia avuto un inizio occidentato causa lockdown piace molto va molto bene vende vende online vende con le librerie che fanno il servizio a domicilio finisce in classifica si innesca un po' un passaparola per cui vende anche andando oltre il mio pubblico ce lo comprano delle persone che non mi conoscono lo trovano in libreria era col passaparola quell'anno il 2020 è anche l'anno delle elezioni americane di Trump dell'omicidio di Floyd di nuovo io sono al centro della storia ma non per meriti miei perché accadono delle cose straordinarie e io sono quello che racconta gli Stati Uniti in anni in cui accadono delle cose incredibili negli Stati Uniti e ho un libro fuori sugli Stati Uniti per cui quando poi viene eletto Biden siamo alla fine dell'anno io faccio il commento al TG1 delle 20 e questa cosa era cominciata veramente con me che scrive una robina per 200 persone per 300 persone ma perché non solo ero finito al posto giusto nel momento giusto ma nel racconto degli Stati Uniti c'è molto anche un fattore generazionale nel giornalismo italiano per cui giornalisti di un'altra generazione rispetto alla mia che non sono secondo me sempre in sintonia in linea con la cultura popolare americana cioè da noi si parla ancora tantissimo di Kennedy qualsiasi libro sui Kennedy esca ha sui giornali due pagine e il mio immaginario non era quello detto che quella è una storia enorme che ha piena dignità e un sacco di fascino il mio immaginario era più quello degli anni 2000 degli anni 2010 degli anni 90 parlavo a un pubblico raccontando un'America diversa da quella che c'era sui giornali con un modo diverso con molta più cultura pop dentro con molti più film con molti più serie tv e quindi quella cosa lì insomma continua a funzionare è anche un anno massacrante nel senso che io ho il libro uscito all'inizio del 2020 mi faccio tutto l'anno a lavorare e quando viene letto Biden da Mondadori mi dicono fai un libro su Biden e lo facciamo uscire appena si insedia a gennaio io avevo raccolto un sacco di materiale su Biden nei mesi precedenti e quindi io faccio questa cosa pazza di scrivere un libro in un mese e mezzo avevo molto materiale faccio un sacco di telefonate e eravamo a casa in zona rossa quindi che cavolo dovevo fare avevo esaurito il catalogo di Netflix scrivo sto libro in un mese e mezzo che il mio secondo libro poi esce a gennaio del 2021 e in quell'anno lì comincio a lavorare troppo quello secondo me è anche un altro momento di svolta della mia vita comincio a lavorare troppo un po' perché ho tanto tempo libero perché siamo tutti chiusi in casa un po' perché ottengo dei risultati per me straordinari e mi rendono molto felice quindi vengo costantemente gratificato un po' perché gli Stati Uniti lo richiedono accadono cose impressionanti però poi io nel 2021 quando ricominciamo a uscire quando la nostra vita comincia a essere fatta di tante altre cose di andare a cena fuori cosa che era impossibile di fare una gita fuori porta cosa che era impossibile non si poteva uscire dal nostro comune c'è delle robe che oggi sembrano assurde comincio a soffrire dalla quantità di ore che passo a lavorare ed è una sofferenza che mi sono portato dietro ti direi fino all'estate del 2022 è stato un anno e mezzo complicato per me da quel punto di vista lavoravi su quali segmenti? nel stesso libro perché poi ne finivi uno ne cominciavi più o meno un altro il post i tuoi post i tuoi contenuti sui tuoi social le tue live e il podcast perché non ne hai parlato e ti avrei voluto chiedere perché oggi quando uno si vuole abbonare al post la prima reference il primo asset editoriale è morning mi racconti questa cosa cioè tu dici io mi sveglio alle 4 del mattino vuol dire io leggo fruisco di tutto e lo riracconto in modo imparziale lo virgoletto per come l'hai raccontato all'inizio della puntata cosa vuol dire che alle 4 del mattino esci vai in edicola raccontami la tua daily routine almeno la tua morning routine prima del podcast di fatto solo una premessa morning comincia a maggio del 2021 si aggiunge quindi a quel caos di cui ti parlavo di mio lavoro in tutto io comunque lavoravo al post cioè lavoro d'ufficio normale di un giornale quindi tutto il resto libri, presentazioni, live contenuti social era tutto in altri orari il weekend la mattina presto la notte la sera io mi sveglio ogni mattina alle 4.45 con l'obiettivo di essere seduto davanti alla scrivania alle 5 quindi poi magari sto anche 10 minuti a letto e poi mi sciacquo la faccia verso il caffè alle 5 cerco di essere seduto davanti alla scrivania con un tablet su cui ho le app dei maggiori quotidiani italiani e abbiamo un abbonamento per ogni giornale come post come redazione e comincio a leggere i giornali parto dal Corriere della Sera vado in Repubblica la stampa il sole il foglio però dovendo leggere tutto questo in un tempo limitato qual è la tecnica? è una lettura obliqua infatti l'avevi già detto diagonale, obliqua cosa vuol dire? vuol dire che io leggo innanzitutto tutti i titoli i titoli che attirano la mia attenzione perché secondo me possono contenere qualcosa di interessante fanno sì che io comincio a leggere l'articolo se comincio a leggere l'articolo non è detto che lo finisco arrivo fino a un certo punto alcune cose le leggo tutte ovviamente dall'inizio alla fine però leggo questo titolo comincio a leggere l'attacco alla notizia ok ho capito la citerò ma non mi interessa approfondirla questa è molto importante questa è una stronzata non mi interessa e man mano che vado avanti quindi una volta che ho letto il Corriere che per me è il più completo oggi dei giornali italiani ma al di là della qualità poi ognuno ha la sua opinione ma è quello che ha un po' tutto la lettura degli altri giornali va anche un po' più rapida perché avendo già letto sul Corriere la notizia magari su Repubblica il pezzo con le stesse cose io do soltanto un'occhiata rapida mi capita a volte oppure di vedere sul Corriere una notizia che trovo molto interessante ma il pezzo del Corriere non mi piace molto e allora cerchiamone uno fatto meglio allora in quel caso sì mi leggerò il pezzo di Repubblica della stampa man mano io decido quindi di cosa voglio parlare le notizie più importanti le cose che mi hanno colpito cosa c'è da dire sui giornali di oggi e prendo degli appunti e questi appunti man mano diventano una scaletta perché li raggruppo per argomenti so che ho più o meno un'introduzione 4, 5, 6 blocchi se la faccio molto lunga in cui parlare delle cose alle 6 e 20 dove sono arrivato devo mettere un punto per cui non sempre riesco a leggere tutti i giornali che vorrei manifesto avvenire a volte faccio in tempo a volte no alcuni non li leggo quasi mai se non attirano la mia attenzione con un titolo di prima pagina quante testate leggi normalmente? fammi pensare Repubblica Corriere stampa foglio sole fatto domani li leggo tutti i giorni e sono 7 se non ne diventi con nessuno uno tra il manifesto di avvenire lo leggo quasi ogni giorno per cui diciamo da un minimo di 7 a un massimo di 9-10 i giorni in cui sono più veloci o più tempo c'è meno da guardare alle 6 e 20 devi reccare cioè devi incidere esatto ho un microfono a casa quindi lo faccio da casa la mia fidanzata per fortuna ha il sonno pesante abbiamo fatto degli esperimenti prima che io cominciasse a fare questo podcast perché la sveglia suona per me ma suona pure per lei e quindi bisogna capire se questa cosa poteva funzionare non potevo rovinarle la vita diciamo però lei mi ha molto incoraggiato e lei la sente e si rigira cioè torna a dormire in un attimo e quindi comincio a parlare faccio un unico take con tutte le interruzioni gli errori le sporcature le pause per pensare eccetera ne viene fuori un file di me che parlo che dura circa 40 minuti te lo riascolti tutto me lo riascolto tutto a velocità per due avendo io parlato so anche individuare tolgo tutto il superfluo le pause gli impappinamenti i colpi di tosse eccetera e arrivo a un file che di solito dura 25-27 minuti aggiungo la sigla all'inizio e alla fine aggiungo i jingle che separano i blocchi esporto il file e lo pubblico con un titolo a che ora? entro le 8 e l'impegno poi a volte si è alle 8.3 alle 8.5 però entro le 8 è diciamo l'obiettivo quanti giorni è una settimana? 5 su 7 da lunedì al venerdì e quando si è in vacanza cosa succede? allora se sono in vacanza vacanza per due settimane in agosto morning va in pausa in cui al caso per due settimane in agosto morning non esce per adesso almeno altrimenti mi rimpiazza qualcuno in questo momento mi rimpiazza Luca Sofri il direttore infastidisce l'utente o lo accetta? dipende c'è chi è molto abituato alla voce alla mia voce al mio stile per cui non si ritrova però è normale capiterebbe anche al contrario c'è chi apprezza il direttore anche più di quanto apprezzi la mia conduzione perché poi ognuno ci mette molto del suo ovviamente c'è chi apprezza anche la novità sentire un'altra voce sentire la voce del direttore del post comunque si diverte quella settimana è una piacevole diciamo deviazione dalla solita strada l'obiettivo è aumentare il roster delle voci che possono rimpiazzarmi continuare a farlo io nella maggior parte del tempo ma a volte può essere un'altra mia collega o un'altra persona del post a fare morning se serve e questo è uno dei tasselli che ti permetterà di mollare un po' l'acceleratore nel 2023 oggi la tua vita di cosa è composto su cosa lavori? allora oggi io mi sveglio ogni mattina e faccio il podcast quindi alle 8 del mattino ho da una parte il sollievo che è una delle cose più importanti se non la più importante l'ho fatta il weekend vado io sì cioè dormo riesci comunque essendo abituato a dormire così poco per 5 giorni su 7? sì 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 riesco se il mio orologio biologico mi svegli alle 4.45 mi addormento subito cioè la mattina io soffro io faccio questa vita sono contento di farla e mi sento in forma però la mattina svegliarsi è pesante hai 38 anni? sì cioè rimarrei volentieri a dormire non è che mi sveglio pimpante mi sveglio imprecando però si deve fare si fa lo faccio anche volentieri se non fosse quel momento di shock quindi podcast la mattina sì scusami per raccontarti la mia vita di oggi dobbiamo fare un salto indietro nel tempo perché alla fine del 2020 io capisco che sto già lavorando troppo e che non posso più fare la cosa che ho fatto per 10 anni al posto cioè il lavoro di macchina di vice direttore operativo di smistare i pezzi di correggere eccetera anche perché poi il giornale è cresciuto e quindi io facevo quella cosa quando eravo in sei se siamo in venti in venticinque ti vendo un collo di bottiglia se tutto passa da me e io mi ricordo giornate in cui pensavo oh è un'ora che devo andare a fare pipì non sono ancora potuto alzarmi dalla sedia tanto era l'intensità degli stimoli continui e chiedo a Luca di trovare un modo per farmi fare dell'altro di farmi produrre dei contenuti e togliermi dalla macchina 10 anni di macchina sono tanti nei giornali questo è un ruolo abbastanza ingrato si dice chi fa desk nei giornali cartacei è un ruolo fondamentale importantissimo che però non ti dà grande visibilità grandi gratificazioni che sai essere anche un volto un po' meccanico impari molto ma sei poco diciamo gratificato del lavoro a meno che non trovi una gratificazione nel fatto che fai una cosa bella io ce l'avevo però 10 anni sono lunghi e quindi ci riusciamo grazie agli abbonati in un modo anche un po' faticoso ma il post oggi ha oltre a me un'altra vice direttrice che si chiama Elena Zacchetti ha un caporedattore che si chiama Stefano Vizio e insieme anche un altro gruppetto di persone più anziane della redazione oggi fanno il lavoro che prima facevo io da solo facendolo quindi anche molto meglio quindi in modo molto più organizzato molto più schematico molto più professionale anche io quindi decido nel 2021 che voglio produrre dei contenuti per il post e da lì nasce l'idea di morning che poi esce a maggio e la mia vita in quel momento è quindi fatta ed è dura ancora adesso da morning alla mattina non faccio più macchina per il post ma la cosa che faccio dall'epoca e ho finito proprio in questi giorni è il direttore artistico diciamo dei podcast del post tutta la parte audio del post è coordinata da me quanti podcast avete? ne abbiamo 4-5 seriali che escono ogni settimana ogni mese uno è anche di Luca il direttore? no Luca ha fatto una serie ne abbiamo fatti molti altri monografici Luca ha fatto una serie sul Watergate che è uscita la scorsa primavera abbiamo dei podcast di quelli che iniziano e finiscono degli altri che hanno un episodio alla settimana due quotidiani oltre al mio c'è quello di Matteo Bordone e quindi per me era molto un lavoro anche molto bello di rileggere gli script andare in sala a registrare capire questa cosa non mi piace rifacciamola qui cambiamo la base un ruolo editoriale su un prodotto che ormai per me era molto parte della mia grammatica anche del modo in cui fare il mio lavoro però un lavoro a sua volta impegnativo da solo poi io ho un fonico e il sound designer quindi sul piano giornalistico sono io l'unico che decide se una puntata va bene o no se uno scritto va bene o no se va corretto se un podcast lo compriamo se un altro lo bocciamo è diventato rapidamente anche quello troppo lavoro non so come dire ci ho lavorato tanto mi è piaciuto tantissimo però tra quello il libro Morning ha fatto fare un gradino grosso al post in termini di abbonamenti un altro di quei gradini di cui ti parlavo un altro gradino grosso a me il mio pubblico è aumentato moltissimo e quindi sono aumentati gli inviti ad andare a parlare nei posti le opportunità lavorative accetti tutti gli inviti o come li filtri? allora a lungo li accetti tutti intanto tu rispondi a tutti i messaggi sui social giusto? sì hai delle risposte preimpostate o? no no la risposta preimpostata è che a volte ti metto soltanto un cuore se mi chiesto qualcosa mi sono detto grazie perché bella mi segnala una cosa ti metto un cuore che vuol dire l'ho vista grazie ma se no rispondo alle domande personalmente cioè un lavoro ci metto un'ora al giorno forse in certi periodi anche di più e come filtri gli inviti? gli inviti oggi li filtro sulla base di questioni logistiche organizzative ce la faccio ad andare e tornare in giornata il fatto che devo fare un podcast la mattina ogni mattina rende un po' complicato dormire fuori poi lo posso fare però è un po' più complesso e oggi anche quanto penso che tu sia serio cioè nel senso oggi a me capita di ero a Bologna qualche giorno fa e c'erano 400 persone dentro la sala e 500 fuori che non sono riusciti a entrare per cui per me oggi accettare un tuo invito è anche una responsabilità rispetto alle persone che so verranno a vedermi e se tu non hai un po' di esperienza nell'organizzare eventi di questo tipo non hai un post adeguato non hai un sistema di preannotazioni adeguato io non rischio solo io di rompermi le scatole perché tu sei uno scarso organizzatore ma si sposta un po' di gente guadagni più dal parallelo o dal tuo stipendio da giornalista da vice direttore in questo caso? guadagni più dal parallelo ma ormai da un po' di anni e questo tra l'altro ha anche cambiato un po' il mio rapporto col post perché il rapporto col post in cui lavori cambia nel momento in cui tu sai di non averne più bisogno sul piano economico non perché il post mi paghi poco il post per fortuna mi paga bene anche perché poi sono il vice direttore Moring ha un grande pubblico eccetera però per fortuna guadagni più dalle altre cose questa è una cosa relativamente nuova parliamo di un paio d'anni però svegliarsi la mattina andare a lavorare quando sai che dei soldi potresti fare a meno o anzi sai un'altra cosa se io non lavorassi al post e usassi quel tempo per fare più contenuti sui social più eventi eccetera io guadagnerei di più cioè una banca mi assolda per fare uno speech in cui racconto la politica economica americana ai suoi manager per me è un lavoro dignitoso giornalistico faccio quello che è il mio mestiere non faccio pubblicità per nessuno nessuno lo sa che vado lì ma parlo di America di economia per un'ora ti danno tanti soldi quindi dici perché lo faccio se trovi delle motivazioni continui a farlo ma la motivazione economica quando salta ti fa vedere tutto in un altro modo come categoria tu come giornalista non puoi promuovere dei brand ma sui tuoi social a livello personale lo puoi fare se esci dal contesto giornalistico o con il fatto di essere scritto all'albo non lo puoi fare mai allora la legge che regola questa cosa è dei anni 60 quindi non prevede l'esistenza dei social il modo in cui viene interpretata fin qui è che anche sui social vale il divieto cioè ci sono stati giornalisti che sono stati sanzionati dall'ordine per aver fatto pubblicità in tv magari scrivevano sulla carta stampata io non posso e non lo faccio io non ho contratti pubblicitari con nessuno non metto mai un ad v nelle storie non faccio mai partnership perché non posso proprio prendere soldi in quel modo lì non accetto regali a volte mi propongono dei regali anche perché se tu mi regali un paio di scarpe non so io non farò nessuna storia con nessun hashtag pubblicitario però il solo fatto che io le indossi e si vedano nelle storie poi la gente ti chiede di che marca comunque sei un testimone all'involontario sei un pubblico io ho un pubblico sui social da influencer potrei monetizzarlo quel pubblico ma non voglio farlo ma soprattutto non posso farlo e penso anche che sia giusto così al di là della legge quindi oggi il tuo parallelo sono i libri e cos'altro? sono i libri sono alcune cose piccole ma manco tanto piccole che mi capita di fare in tv ho fatto una miniserie no una miniserie con The Zone ho fatto l'ospite nei talk show ma non lo farò più non ci vado più non nel tuo mondo non nel mio mondo e poi non ti pagano manco quindi ho maggior ragione non ci vado e gli eventi eventi incontri sia in sede professionale diciamo con la banca che ti chiede di fare una relazione sulla politica economica di Biden ma anche i festival adesso mi cominciano a pagare mentre invece prima andavo sempre gratis anche i festival adesso ti vogliono ti danno un gettone e sì quelle sono le mie entrate un altro polmone che ti piacerebbe che entrasse nel tuo parallelo quindi non lo so magari il cinema le serie altre cose che ti attraggono a me allora mi attrae la televisione in questo momento che cosa vecchia che tipo di televisione i documentari il racconto televisivo per immagini e qual è la rete più adatta per questo secondo te per te forse una piattaforma forse una piattaforma nel senso che è anche un tipo di fruizione a cui mi sento più vicino che non è quella di sbrigati che comincia ma che quando vuoi te lo guardi ti direi una piattaforma è un linguaggio che possa ancora dare molto nonostante sia stato molto ovviamente esplorato però mi piacerebbe fare delle cose in tv in cui non ci sono io che parlo e litico con qualcuno dal vivo ma in cui ti racconto una cosa quello che faccio col podcast aggiungere le immagini cambiando quindi anche linguaggio ma quella roba lì stavi scandendo la tua giornata poi ci siamo fermati a un certo punto però tutto quello che è il tuo mondo parallelo subentra nel pomeriggio quindi tendenzialmente fino a notte è abbastanza chiaro quello che fai ma il ruolo del tuo partner in crime che sente la sveglia dei 4 e 45 cioè voglio sapere la tua fidanzata quanto tempo hai per lei? come vanno le cose rispetto al tempo che tu hai? le cose vanno bene stiamo bene insieme da molto tempo e insomma le cose funzionano e ci sposiamo l'anno prossimo da questo annuncio diciamo quindi le cose funzionano è complicato ovviamente perché io faccio un lavoro che mi porta tanto fuori e che mi distrae molto per cui per esempio io so che adesso la sera io evito di lavorare del tutto io torno a casa alla fine della giornata se non sono in giro a presentare il libro e mi capita anche di mollare il cellulare e non toccarlo più fino alla mattina dopo per cui i miei amici sanno che se mi scrivi alle 8 di sera io ti rispondo il giorno dopo perché al di là che voglio staccarmi da quel mondo voglio ristare con la mia fidanzata voglio ristare diamole un nome Silvia si chiama Silvia voglio ristare con Silvia di fare delle cose di goderti appieno il tempo con lei non essere sporcato da altre sollecitazioni che hai dalla frenesia del tuo lavoro ma anche perché io per me è molto un lavoro e a volte non è sempre è facile raccontarla questa cosa per me spiegarla è un lavoro che mi piace moltissimo tantissimo che mi appassiona e io sicuramente leggerei il giornale anche se anche quando sarò in pensione continuerò a informarmi anche se quello non fosse il mio mestiere però è un lavoro a me piace anche cazzeggiare mi piace anche giocare ai videogiochi quindi mi piace molto passare il tempo libero non attaccato alle notizie qual è il tuo videogioco preferito? sono molto banale io gioco ai giochi di sport non sono un grande gamer FIFA Formula 1 Madden il gioco sul football americano giochi su PlayStation sì sulla PlayStation 5 il regalo di Silvia tra l'altro e tra l'altro è un cimeglio introvabile perché quando è uscito era il ressel come le sneakers era difficilissimo da trovare è stata una grande aventura trovarla mi sono iscritto a dei gruppi telegram super assurdi sono stato svegliato da delle notifiche alle 3 del mattino che dicevano c'è un drop c'è un drop andate mi sono andato ad ordinarla ce l'ho fatto prima dell'ultima domanda ti chiedo abbiamo parlato di tuo papà prima no? oggi se lui fosse qui e lo è in modo diverso cosa pensi che ti direbbe rispetto a tutto quello che stai facendo? è difficile non dire delle banalità credo e spero che sarebbe orgoglioso perché poi alla fine che parole userebbe tu che lo conosci molto bene ah che parole userebbe lo conosco molto bene ma non ci parlo da un bel po' di tempo ed ero piccolo quindi sai a volte mi risulta anche difficile immaginare questo tipo di conversazioni da adulto come sarebbero state credo che mi pare un tipo un po' ansioso credo che sarebbe stato sempre molto spaventato da un mio possibile passo falso dagli hater da quelli che che ti insultano se sbagli qualcosa credo che mi avrebbe detto moltissimo stai attento ogni volta che vado in tv eccetera mi raccomando stai attento credo che mi avrebbe fatto molte raccomandazioni ma in modo molto affettuoso e sarebbe stato orgoglioso ma manifestandolo diciamo più in questo modo con le premure che facendomi mille complimenti mio padre era più quel tipo di persona lì cioè più sui gesti e le premure piuttosto che sul dirti ma quanto sei intelligente quanto sei bravo invece tua madre che in vita che parole ha usato per esprimerti il suo orgoglio nei tuoi confronti visto che ti ha sempre spronnato in seguire i tuoi sogni mia madre è orgogliosissima e fierissima e mi manda dei messaggi pieni di emoji e si vanta con tutti del fatto che ha un figlio famoso che fa delle cose fa delle cose belle e credo anche che lei veda almeno spero e se non è così ma magari questa intervista la vedrà sicuro perché guarda tutte le cose che faccio ma che veda in questo risultato in questa carriera che per fortuna mi sono riuscito a costruire una dimostrazione del buon lavoro che ha fatto in circostanze che non sono state sempre semplici e invece se tutto è andato bene lei ci ha messo del suo e tuo fratello ti ha mai espresso il suo orgoglio nei tuoi confronti? sì 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 mi ha espresso il suo orgoglio io ho dedicato un libro ai miei nipoti e ai suoi figli ne parliamo molto gli racconto le cose che mi succedono siamo molto alleati molto complici dopo un'infanzia in cui ci siamo menati tantissimo perché fratelli di età vicine la violenza purtroppo è garantita no adesso siamo siamo molto alleati e mi aiuta anche a fare delle cose a pensare a delle cose se ho un problema con un contratto lo chiamo e siamo molto molto uniti concludo con una domanda apparentemente meno leggera volevo chiederti se avevi paura della morte moltissimo moltissimo ma sai non solo paura della morte mi fa proprio incazzare la morte cioè non so dirti non so esprimere quanto mi dispiace non vedere come vanno a finire tutte le cose tutte le cose che accadranno fighissime dopo che io non ci sarò più quella roba lì mi fa diventare matto e quindi ne ho paura non in senso del dolore fisico o della scomparsa perché poi quella cosa ovviamente si mi spaventa ma trovo che sia un'ingiustizia terribile però poi mi dico anche che se non ci fosse il mondo non cambierebbe mai ed è un grandissimo motore di cambiamento come diceva non so se Steve Jobs diceva questa roba senza la morte avremmo delle società peggiori io vorrei rimanere anche soltanto come osservatore se possibile non faccio più nulla ma guardo e basta mi basterebbe grazie Francesco grazie grazie mille